finanziari amici della colazione finanziaria benvenuti all'episodio numero novantasette novantasette episodi insieme ci siamo fatti ragazzi oggi siamo ahimè orfani del scusate del dottor zanni non non ci abbiamo il dottor zanni ci ha dato buca maledetto ci ha dato buca il dottor zanni non ce l'ha non ce l'ha fatta oggi oggi non ce l'ha fatta ho scoperto che il dottor zanni non ha un figlio ne ha tre poi vi spiego perché ha tre figli dottor zanni secondo me c'ha tre figli poi poi scoprire 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 perché oppure glielo chiediamo direttamente la volta la volta la volta la prossima comunque visto del dottor zanni non c'è questa settimana ci facciamo una colazione finanziaria ricca tra di noi tra di noi andiamo finalmente sono libero di poter di poter parlare che non ho il dottor zanni che mi mi censura poi parliamo parliamo di bitcoin parliamo di di finanza parliamo di invidia parliamo di di tanta roba spazio a domande e risposte ci facciamo anche una vagonata di domande risposte ragazzi senza colazione finanziaria senza peli sulla lingua benvenuti a tutti fatemi sapere subito se mi sentite se mi vedete se è tutto ok nel frattempo vedo che i commenti ci sono quindi un bel buongiorno a tutti quanti gli amici della colazione finanziaria è tutto ok ragazzi fatemi sapere se se mi sentite se mi vedete se se ci siamo nel frattempo io vi ricordo che questa è proprio l'ultimissima chiamata anche perché settimana prossima iniziamo martedì e mercoledì abbiamo due live clamorose pazzesche e vi metto il link per partecipare all'iniziativa gratuita trader part time perché parleremo settimana settimana prossima parleremo di sempre live di strategie di trading multi dei come operare sul mercato azionario a selezionare le singole azioni e in ottica di lungo termine medio termine le mie strategie quelle causato nel 2023 quelle che uso nel 2000 nel 2024 long short insomma vedremo un sacco sacco di roba questa è l'ultima chiamata proprio perché iniziamo è gratuita l'iniziativa l'ultima chiamata perché perché appunto poi 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 iniziamo ok saremo live martedì e mercoledì alle 21 esatte non ci saranno le registrazioni quindi potete partecipare ci facciamo una bella scorpacciata di contenuti come sempre straricchi di valore link lo trovate in chat oppure sotto in descrizione trader part time va bene va bene va bene allora fatemi vedere che se mi se mi rispondete vediamo e sentiamo ok va bene frattempo prendo il caffè ragazzi perché anch'io mattia faccio colazione insieme a voi allora allora mercati alzo le mani è noi non c'è io non c'entro niente non mi mettete in mezzo e se no poi il dottor zanni dice porto sfiga e che c'ho sempre ragione io alzo le mani partiamo subito analisi dei mercati andiamo diretti poi dopo vediamo parliamo di picco di bitcoin che c'è stato l'albing ieri ieri notte c'è stato l'albing vediamo che cosa significa che cosa comporta tutti a parlare di albing se lo dico a mia nonna pure ma l'albing di bitcoin vedremo il significato vero dell'albing dell'albing di bitcoin e niente quindi iniziamo su poi risponderò a tutte le vostre domande iniziamo subito però con una bella un bel giro una bella analisi dei mercati allora 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 mercato settimana negativa abbiamo avuto una settimana dove praticamente rispetto alla chiusura della settimana scorsa l'azionario globale ha perso il 3 per cento infatti vedo tutti i belli belli collegati subito alla colazione finanziaria anche sono svegliati anche anche chi ieri sera si stava ballando la fresca tutti belli collegati stamattina va bene a meno 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 3 per cento che tutto sommato alla fine poi vedremo delle statistiche vi faccio vedere che non è assolutamente non è assolutamente niente quindi siamo arrivati ad 88 e 10 praticamente i livelli che ci aveva ci aveva abituato a vedere a febbraio di quest'anno rimane un inizio anno positivo per adesso una minima chiamiamola veramente minima correzione questo ne parlavamo nelle nelle settimane passate a proprio dicendovi qual è il problema grosso che le persone soprattutto voi considerate che le persone entrano in iniziano in continuazione ad investire non è che uno o tutti quanti investono da da 5 10 15 20 anni tanta gente si avvicina ai mercati finanziari quando i mercati tirano bene l'investitore medio si è abituato a vedere questi mercati qui purtroppo da ottobre a oggi quindi sei mesi abbiamo avuto sei mesi di soli rialzi ma l'abbiamo anche detto un certo punto ragazzi la colazione finanziaria è la copia di quella precedente la copia di quella sempre sempre la stessa cosa ecco questo quando il mercato scende un pochino di più perché per me la non è la normalità è meno della normalità questo è però attenzione perché le persone tutto bello tutto bello tutto bello tutto bello a ogni meno quanto quanto avrà fatto la quella correzione più grande l'azionario globale avrà fatto ha fatto l'unico l'uno e mezzo percepito l'uno e mezzo non so forse qui ha fatto un po di più dell'uno e mezzo ma l'uno e 63 ecco dai massimi invece adesso ha fatto meno 4 dai massimi che per me per me neanche vale la pena parlarne però il principiale investitore principante principiante non parlo di capitali perché c'è il principiante che c'ha 10 mila c'è il principiante che c'ha 10 milioni abituato a vedere sempre il capitale salire 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 quando vede meno 5 meno 5 sull'azionario globale ma come diceva warren buffett quando si abbassa la marea si scopre chi nuota nudo che vuol dire non li prendiamo a casaccio di le citazioni di personaggi famosi cioè non diciamoli tanto tanto per dire che vuol dire quando si abbassa la marea si scopre che il nuota nudo quando i mercati salgono tutti guadagnano cioè o meglio in realtà no perché in italia abbiamo visto anche chi è in banca chi è in poste chi in assicurazioni che riescono a perdere anche quando i mercati salgono va bene però quando mercato generalmente quando i mercati salgono le persone che dicono è perché ci vuole ma sono capace anch'io ma che che faccio che vado perché vado a fare da un professionista tanto sono capace anch'io guarda che numeri e guarda di qua e guarda di là e io qui io la io su io giù fanno vedere magari chi fa qualcosa fa vedere le performance agli amici bello allora anch'io faccio ma tu hai tu hai fatto questo allora dimmi come fare che faccio anch'io attenzione esce fuori anche queste queste sono dinamiche proprio da psicologia di massa ragazzi non ve lo so non ve lo dico io ve lo dico basta leggere qualche libro è di psicologia di massa è questa poi non lo vediamo tutti i giorni con la scf più di 3 mila clienti più di 10 mila analisi di portafoglio è proprio è la la sagra dell'ignoranza finanziaria quindi il principiante si finisce in una situazione assurda dove il principiante che non ha mai investito segue l'amico il parente il collega che magari è più principiante di lui ma soltanto perché ha iniziato un po ha iniziato in una fase favorevole crede di essere un professionista crede di essere un esperto gli da consigli marea che si alza quando si abbassa la marea si scopre chi nuota nudo vuol dire che si scopre che chi non chi non ne sa niente di finanza o chi ha investito senza guardare gli orizzonti temporali senza guardare la tolleranza al rischio senza guardare i propri obiettivi di vita senza pensare a prima reddito tutte queste cose qui si abbassa la marea e lì paura panico gente che già inizia a vendere gente che già vuole vuole scappare è no ma era meglio il btp è no ma era meglio la liquidità odio l'azionario dio crolla tutto ma adesso che faccio vuoi un casino mi servono i soldi ma sto sotto del 5 e è il delirio è ecco perché diciamo sempre fatevi seguire da un consulente finanziario perché ve lo diciamo tanti non è perché ci avete i vostri servizi si è chiaro un servizio un servizio nell'interesse del cliente perché un conto far da solo e essere da solo quando i mercati scendono un conto essere seguito da un professionista che ti dà la retta via quando i mercati scendono quando si abbassa la marea si scopre chi nuota nudo con un professionista è tutta un'altra cosa che affrontarlo da solo poi voi potete pensarla come volete ognuno siamo in un mondo libero io ognuno è libero di far quello che vuole ma se volete farvi seguire e dovete farvi seguire perché quando i mercati scendono è lì che viene fuori il valore del professionista in descrizione trovate il link per richiedere l'analisi gratuita e poi farvi seguire da uno dei nostri consulenti e non dico altro ma vi metto pure la faccia del dottor zanni che non c'è mi metto anche l'analisi gratuita qui in chat oppure la trovate sotto in descrizione ragazzi questo è fondamentale lo dico per i nuovi lo dico quelli che si avvicinano adesso ai mercati quelli che iniziano a seguire adesso la colazione finanziaria ricordate che è per voi io alla sera vado a letto la sera andiamo a letto sempre sereni i clienti nostri hanno letto sempre sempre sereni se diventate clienti o non diventate clienti per me è uguale io vado a letto la sera sempre uguale mio stipendio ce l'ho sempre la vita mia è uguale la vostra attenzione perché non è banale questo ok va bene detto questo altro detto e continuo a scomodare warren buffett con un'altra situazione tra le più importanti che abbia mai detto nei soldi social non avrà dette non lo so venti di citazioni importanti warren buffett prendono la ventunesima quella che non conta niente cioè è la prima regola sui mercati non perdere soldi che la regola più stupida che non credo non credo mai che l'abbia detta hanno preso ma magari hanno preso male qualche parola che che ha detto warren buffett ma prendono sempre quelle meno importanti tra le più importanti oltre a quella che vi ho appena detto la seconda citazione più importante warren buffett è in borsa sui mercati non dovete prevedere il futuro in borsa non conta prevedere la pioggia non conta prevedere quando pioverà quello che conta è costruire l'arca altra citazione di uno splendore di un'enormità atomica questa che però viene colta soltanto dopo che fate un po di esperienza sui mercati finanziari perché se io vi dico non dovete costruire non dovete prevedere la pioggia ma dovete costruire l'arca voi guardate stamattina vi rimettete a letto va bene tanto ditemi se siete ancora svegli perché stiamo facendo dei passaggi importantissimi ci siete ragazzi siete pronti e svegli pronto e ciao colazione finanziaria episodio 97 io sono alessandro moretti e siamo orfani del dottor zanni quest'oggi ci siete ok perché è importante questa dannatissima citazione quando ve la dovete stampare inscrivete scrivetevela su un post it appiccicatevela sul computer nel comodino quando vi svegliate non è importante prevedere la pioggia quello che conta è costruire quella stramaledettissima arca ci dovete avere un'arca grossa che così che non c'entra nello schermo quanto è grande l'arca a che serve l'arca cioè o meglio a che serve prevedere la pioggia quando non ci avete l'arca che se piove va affogate e questo è imbarata questa la cosa imbarazzante cioè sui mercati finanziari pensateci rifletteci guardate le persone intorno a voi tu ogni dannato giorno le persone che fanno senza che fanno le persone è ma qual è il mercato che sale è ma dove mi conviene investire e ma che cosa mi consigli di comprare e ma quando scenderanno i mercati e ma adesso arriverà il crollo e ma all'america e ma la cina e ma di qua stanno sempre prevedendo il futuro stanno sempre provando a prevedere quando pioverà dove pioverà se pioverà quanto pioverà questo non conta niente questo sui mercati non conta assolutamente niente ma zero quello che conta è costruire l'arca che cos'è l'arca che vuol dire costruire l'arca costruire l'arca vuol dire costruirsi una strategia di investimento un portafoglio di investimento antifragile per dirla con le con le parole di nasim nicolas taleb questo oggi stamattina scomodo tutti i più grandi big enormi di un'enormità atomica del mondo della della del della finanza e anche finanza comportamentale portafoglio antifragile che vuol dire portafoglio antifragile che un portafoglio che intanto è coerente con i nostri obiettivi di vita orizzonti temporali tolleranza al rischio che abbiamo che non è un portafoglio che guadagna sempre ma è un portafoglio che anche se i mercati scendono non ci provoca alcun danno al nostro stile di vita al nostro tenore di vita e che noi riusciamo a sopportare riusciamo a sopportare nelle sue oscillazioni rivediamo questo passaggio un portafoglio ben diversificato allineato con i nostri obiettivi di vita orizzonti temporali e tolleranza al rischio costruito con strumenti efficienti perché se costruiamo l'arca con legno marcio piove o bello con l'arca e affonda l'arca che cazzo ci fai con l'arca che ok quindi è importante un portafoglio di questo tipo il portafoglio è la nostra arca che attenzione una volta che abbiamo il portafoglio arca dovremmo dove dovremmo devo battezzarlo il portafoglio arca una volta che abbiamo questo portafoglio arca questa strategia di investimento arca a me quando piove non me ne frega niente di prevedere la pioggia perché quando pioverà può piovere oggi può piovere domani può piovere tra un mese può piovere tra un anno o due non mi interessa quando piove io all'arca se voi avete l'arca della pioggia non ve ne frega niente se non piove ce l'avete se piove la usate ma voi l'arca ce l'avete cosa diversa di chi invece lì fuori l'arca non ce l'ha l'arca non ce l'ha ma parla ecco i mercati ma saliranno scenderanno questo è il topo e sabato poi tra l'altro se vi concentrate a prevedere la pioggia ma non c'avete l'arca quando piove porca miseria se l'arca non ce l'avete belli bravi avete previsto la pioggia ma morite lo stesso affogati perché l'arca non ce l'avete capite la la profondità di un cavolo di ragionamento come questo rivedetelo mettetelo in loop e rivedetelo ogni mattina svegliatevi e rivedetevi questo passaggio perché è di una profondità astronomica bene ce l'avete l'arca ragazzi scrivetemelo in chat se se avete il portafoglio arca portafoglio arca è un portafoglio ripeto ben diversificato fatto di strumenti efficienti con il costo minimo allineato ai vostri obiettivi di vita orizzonti temporali e tolleranza rischio imparatevelo come se fosse la ver maria se siete clienti della invest scf il portafoglio arca ce l'avete non l'abbiamo mai chiamato arca ma di fatto è un portafoglio allineato con i vostri obiettivi di vita ben diversificato costruito con gli strumenti più efficienti che ci sono sul mercato ok se non ce l'avete è un problema è un problema perché mentre i mercati salgono tutto bene perché c'è il sole quindi qui c'è il sole disegnate il vostro il vostro bel il vostro bel sole ok bello il sole ai tutti che parlano io qui ho fatto io su e giù pioverà non pioverà qui arrivano i nuvoloni arrivano ok qui arrivano i nuvoloni con i con i fulmini se tra poco arrivano i fulmini se inizia a piovere non potete costruire l'arca mentre piove uno dice no ma io costruisco l'arca mentre piove no mentre piove la devi usare la casa e ti metti a costruire l'arca mentre piove è un cavolo di problema perché non ce la fai bene vi è piaciuta la metafora oggi siamo andati sul biblico siamo andati siamo passati dalla cucina al biblico che fatica ragazzi ditemi ditemi se è chiara la metafora la metafora dell'arca clienti non clienti chi è cliente chiaramente che ci segue o chi ci segue da anni per cui queste cose l'abc no dovreste averli che comunque ripassarli non fa mai male perché è nuovo lo so vivi vintorcina un po i neuroni questo lo so soprattutto la domenica mattina ma bellissimo ragazzi vi devo raccontare questo e poi andiamo avanti ve l'avevo detto live la settimana scorsa ha fatto i commenti aspetto nel frattempo aveva detto la settimana scorsa la settimana scorsa era blocco dei conti correnti io lo sapevo che dopo la colazione finanziaria sarebbero sarebbero arrivati su tutta quella quella la fascia della della popolazione mettiamola così per non essere volgari e volgari analfabeti finanziariamente che non è un'offesa analfabeta analfabeta finanziario vuol dire che non conosci proprio le basi della fede della finanza l'alfabeta finanziario barra analfabeta funzionale che anche lì non è un'offesa semplicemente che è un dato statistico il 48 per cento della popolazione italiana analfabeta funzionale quindi non riesce a comprendere un discorso non riesce a comprendere una frase scritta ha dei problemi importanti e ne sono arrivati ovviamente ovviamente sono arrivati ho letto dei commenti di un ignoranza ma poi che cosa dice ma aspetta questo questo se l'hanno l'hanno ibernato e trent'anni fa e si è risvegliato oggi da dove è stato tutto su tutto sto tempo ma dei commenti incredibili del tipo no ma la banca mi dà i servizi gli investimenti della banca la banca me lo fa gratis mi fa investire gratis voi fate pagare come la banca gli etf io non sono così sicuro che ho qualche dubbio che gli etf no tu non devi avere i dubbi quello che pensi tu non è un problema cioè la realtà è un'altra poi uno può pensare qualsiasi cosa ma quello che c'è della testa non conta sinceramente ho dei dei commenti incredibili a fare delle marchette vostri ai vostri servizi gratis l'analisi è grato pronto è gratis l'analisi del portafoglio cioè nell'analisi del portafoglio che ripeto per i nuovi sotto in descrizione c'è il link ci cliccate vi fate fare un'analisi da un consulente iscritto all'albo che vi da un report di 30 pagine dettagliato che è uno spettino 30 tra l'altro l'abbiamo migliorata sono 70 pagine 70 pagine di report sui vostri investimenti gratis che vi fa vedere no secondo me secondo lui o secondo quell'altro con i numeri alla mano che quazzabuglio di roba avete nel portafoglio quanto pagate quanto rischiate le inefficienze tutto gratis con un'ora di call ragazzi è un valore astronomico ne abbiamo fatte più di 10 mila fatelo fatelo dovete farlo dove ce l'avete i soldi in banca ha messo i soldi in banca messi soldi male perché vuol dire che qui i due investimenti non hanno fatto questo investimenti hanno fatto hanno fatto questo se tutto va beh stanno facendo questo sei ritornato in pari malissimo sei nelle assicurazioni non c'è non c'ho i capelli per mettermi le mani nei capelli se hai i soldi in assicurazioni immediatamente l'analisi subito subito adesso la richiede in questo momento perché puoi migliorarli per 10 per 15 per 20 tra riduzione dei costi efficientamento di portafoglio e l'analisi è gratis sentite veramente tutti colori che dico va bene se adesso con l'azienda facciamo 3 milioni di fatturato e quest'anno probabilmente arriveremo anche di più sei e c'è ancora ci sono ancora tantissime persone così da aiutare qui dice ok abbiamo in mano un'azienda e può fa 100 milioni all'anno 100 milioni all'anno vuol dire che alle persone possiamo fargli risparmiare il doppio se non il triplo perché quello che pagano a noi di parcella è una parte di quello che si risparmiano di quello che pagano in banca quindi proprio abbiamo la possibilità di fare un lavoro incredibile aiutare veramente milionate di persone aiutateci in questo condividete le live condividete l'analisi del portafoglio adesso più che mai ragazzi perché adesso il mercato diventa tecnico ok e anche chi ha guadagnato perché negli ultimi sei mesi veramente non guadagnare bisogna impegnarsi chi anche ha guadagnicchiato qualcosa in banca in assicurazione alle poste perché uno dice no vabbè ma comunque qualcosa guadagnato male perché se la componente azionaria non ti ha guadagnato almeno in questo momento il 19 per cento negli ultimi sei mesi la componente azionaria c'è un problema c'è un grande problema ok quindi mi raccomando ok sull'azionario quindi oscar un salutone a oscar prendo subito passando da guarda un commento quando stai quando sono solo ragazzi perdonatemi non riesco non riesco a parlare vedere i commenti perché quando siamo in due se la ci alterniamo parla uno l'altro analizza parla l'altro l'altro guarda i commenti è così è da solo un po più difficile o grazie oscar chi segue la cosa c'è finanziaria live al mattino queste cose ma le sa memoria giusto infatti chiedo scusa a chi chiede a chi ci segue tutte le mattine ormai da 97 episodi però ogni mese abbiamo ogni settimana in realtà abbiamo persone nuove quindi dobbiamo dobbiamo ridirle dobbiamo ridirle in continuazione perché altrimenti le persone veramente non lo non lo non lo sanno c'è sempre fare apposta a certo punto dico ok 1 1 fa apposta per 10 non è per 10 del capitale è per 10 rispetto rispetto a quello che fa quello che fa in banca perché se in banca fai 0 o fai 1 perché noi vediamo ogni giorno le analisi porta faccia vediamo gente se tu qui fai fai per hai fatto con la con la banchetta con l'assicurazione piena zeppa di costi se qui hai fatto hai fatto questo hai fatto il 2 dal 2 portarlo al 20 già prendendo di l'efficienza del mercato fai per 10 fai per 10 del rendimento ok vabbè no non posso leggere i commenti perché se no altrimenti faccio faccio un monologo poi vi prendo di smonto tutti e li smonto i commenti allora va bene detto questo torniamo a noi torniamo a mercati io non c'entro niente vi dicevo aperta una parentesi abbastanza lunga avevamo chiamato il top di mercato io non c'entro niente però non mi date la colpa a me non mi date ora che cosa succede niente è sceso un attimo va bene attenzione attenzione che aprile maggio mercati normalmente adesso ci avviciniamo anche il periodo delle elezioni americane quindi quando c'è l'anno delle elezioni dopo un trimestre gennaio febbraio marzo bellissimo il periodo che va da aprile fino a settembre fino alle elezioni adesso mi ricordo quando ci sono se settembre ottobre mercati sono parecchio turbolenti quindi allacciate le cinture se avete investito bene perfetto se non avete investito bene se ci avete la macchina senza freni senza gomme senza col motore in fiamme quello un problema prima ve la fate mettere a posto e meglio è io ve lo dico quando i buoi sono usciti dalla stalla poi è un casino rimetterli dentro visto che già stanno uscendo i buoi fatevi un esame di un esame di coscienza cioè nel senso a un certo punto i soldi sono i vostri s&p s&p 500 allora l'azionario globale un po si è salvato anche con il cambio s&p 500 dato sotto 555 da dai massimi quindi meno 5 in realtà non è non è assolutamente niente ricordiamoci che veniamo da sei mesi di corsa lunga senza senza pause 5 per cento di correzione sul mercato azionario non è niente ogni anno 5 per cento di correzione lo fa almeno due tre volte l'anno lo fa sempre ma fa anche di più quindi aspettatevi ancora ancora di più aspettatevi che non è assolutamente niente questo bene nasdaq anche nasdaq c'è più volatilità nasdaq meno 77 adesso entriamo anche nella stagione delle trimestrali siamo entrati quindi attenzione perché questo mese è molto caldo ci sarà molta volatilità anche il nasdaq è venuto il venuto giù scricchio la invidia parleremo anche di invidia più tardi perché bisogna bisogna metterle bisogna dirle due parole su invidia siamo tornati qui praticamente sui livelli di dicembre attenzione anche qui quando vi prendete troppi rischi quando il mercato sale e vedete tutto bene le persone io lo vedo aumentano i rischi aumentano tra chi mi chiede leva due ma non è meglio investire leva due si leva due qua mercato fa meno 7 tu fai meno 14 quindi attenzione bene oppure tanti dicono ma perché l'azionario globale è meglio farmi un nasdaq ok dai massima verso il 7 contro il 4 dell'azionario globale sei pronto ad accettare una un rischio di questo tipo perché non tutti sono pronti ad accettare un rischio del meno del meno 7 non tutti sono pronti a bella la macchina che va a 250 km orari ma non tutti sono pronti a vederla andare a starci seduti ed andare a 250 km orari ok perché bisogna essere pronti perché se a 150 ti comincia a venire il mal di stomaco ti viene il vomito e hai paura a 250 non ci puoi andare poi lo vedi col senso ma è ma il nasdaq ha guadagnato il nasdaq va a 250 sì ma tu devi essere in grado di poterci andare 250 o se non ci sei andare tu non sai guidare la macchina per andare a 250 devi averci vicino un professionista che guida e ti porta 250 e nonostante tu abbia magari un professionista vicino che guida e ti porti a 250 tu seduto sul passeggero devi star bene perché è inutile che ti prendi un professionista che ti porta 250 se tu poi passi tutto il tempo a vomita dal finestrino perdonate il passaggio mistico della 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 metafora perché con queste male e appena finisce dice no fammi scendere guarda io non ne voglio più a che sapete la macchina ma basta vado a piedi ok è esattamente così a livello psicologico quindi attenzione attenzione anche perché il nasdaq ha corso ha corso tanto nasdaq ha corso veramente tanto poi voi fate allettare dai rendimenti alla fine del ciclo rialzista e quando viene giù poi non ce la fate a sopportare le perdite quindi potrebbe continuare a scendere chiaramente mercato la large cap growth anche qui eh ha ha subito un bel una bella flessione in linea abbastanza con il nasdaq a meno 7 e 16 siamo arrivati anche qui un po un po meglio però il nasdaq è andato vendato più giù ha ripreso eh i massimi di di dicembre qui invece siamo ancora abbastanza più in alto rispetto perché ha corso un po di più prima eh rispetto rispetto al nasdaq il large cap value hanno avuto una flessione del 5 92 recuperato qualcosa quindi 5 per cento con la seduta di venerdì e siamo sui livelli di febbraio 24 poi lato small cap invece abbiamo le ehm le small cap growth che hanno sentito abbastanza eh il le dichiarazioni delle banche centrali che hanno detto comunque i dati gli ultimi dati economici che hanno hanno portato le banche centrali soprattutto la fed a dire ok aspettate costorite costo taglio dei tassi che vado eh li ritardiamo e vediamo quello che succede chiaramente tassi alti per le aziende piccoline con profili di crescita molto grandi è un problema è un problema eh sia a livello di valutazione perché eh i tassi c'è una c'è una scontistica diversa eh sia per tante sono molto indebitate perché per crescere velocemente si indebitano e quelle indebitate soffrono tanto i tassi di interesse alti perché gli aumenta il costo del debito costo del debito più alto abbassa la marginalità e anche se avevano dei finanziamenti eh aperti a tassi più bassi se devono rifinanziare scade il finanziamento devono rifinanziare i loro business adesso li rifinanziano a tassi molto alti che abbassa nuovamente la marginalità per cui eh chiaramente sono quelle che soffrono sono quelle che soffrono di più il eh i tassi i tassi alti e il fatto che questi tassi non 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 vengono per abbassare i tassi non diciamo a zero perché a zero probabilmente non ci torneranno per un bel po' eh però che li li ritocchino leggermente verso verso il basso quindi avevano corso tanto da novembre anche sull'idea delle banche centrali che avrebbero abbassato i tassi anche qui lasciate stare pensate a tutti quelli che prevedevano i tassi bassi no adesso passeranno abbasseranno abbasseranno ancora non l'hanno abbassati pensate quante portate in faccia hanno preso no quindi lasciate stare le previsioni dei mercati ehm adesso c'è stata questa questa pressione infatti siamo arrivati ai livelli di dicembre del quad addirittura il 14 dicembre dell'anno scorso quindi ancora più profonda questa eh questa questa correzione qui per quanto riguarda le eh il small cap value anche loro ovviamente hanno sentito questo ribasso o questo in cui queste queste notizie sui tassi hanno avuto un ribasso del 7,59 e qui siamo sui livelli anche qui del 14 del 14 dicembre del 2023 quindi vediamo come le small cap hanno subito di più eh la la flessione dell'ultimo dell'ultimo mese andando a vedere il mercato europeo invece abbiamo avuto eh tutto sommato ha tenuto abbastanza bene il mercato il mercato europeo eh qui siamo su eh l'euro lo stocks europe 600 eh che ha ha avuto una flessione del 3,26% quindi bene il mercato europeo che sta tenendo sta facendo veramente veramente bene da novembre ha avuto un bello un bello slancio le 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 flessioni sono sempre abbastanza moderate quindi è interessante quello quello che ci ha regalato il mercato europeo negli ultimi negli ultimi mesi erano anni che non vedevamo un mercato europeo così eh così in forma per quanto riguarda il Fuzzimib siamo rimasti sopra i 33.000 sopra i 33.000 punti dai massimi la flessione è stata del 2,76% quindi anche il Fuzzimib che eh continua a far vedere i muscoli è veramente in forma si sta preparando per la prova costume e al di là di questo no va bene trainato trascinato dai finanziari che stanno facendo molto bene che beneficiano in questo caso da rialzo dei tassi dai tassi che rimangono alti quindi se da una parte le small cap ehm soprattutto quelle più indebitate con profili di crescita più alti vengono ostacolati penalizzati da eh tassi alti i finanziari e il Fuzzimib è un indice finanziario eh ovviamente ne traggono beneficio e questo lo si vede anche sull'andamento del 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 Fuzzimib che comunque rimane tonico. Per quanto riguarda le small cap italiane invece small e mid cap italiane qui siamo in flessione del eh 4,68% quindi un po' più un po' più marcata rispetto al Fuzzimib perché chiaramente il segmento small e mid cap italiano è meno finanziario rispetto al large cap alle large cap. Ok per quanto riguarda il andiamo a vedere saltiamo sull'oro l'oro che eh continua a ci ha provato vabbè allora venerdì ha fatto i suoi massimi storici duemila quattrocento trenta eh dollari loncia questa la settimana si è mantenuto per tutta la settimana sopra i duemila e trecento dollari loncia ha chiuso la settimana comunque su livelli molto alti a livello di prezzi di chiusura non aveva mai chiuso su questi livelli quindi comunque un'altra buona settimana si si conferma eh un ottimo stabilizzatore di portafogli mettiamolo mettiamolo così quindi non è un motore di rendimento l'oro l'oro allora l'oro scrivetelo l'oro non è motore di rendimento l'azionario è il motore dei rendimenti dei portafogli l'oro è uno stabilizzatore vedete l'oro come che ne so il freno della macchina eh freno della macchina l'alettone della macchina non lo so ok però non è il motore il motore l'azionario ok va bene euro dollaro euro dollaro che si stabilizza in area 106 e 52 siamo un po sulla sulla parte bassa di questo di questo lungo laterale e questo ve lo diciamo da una vita sono le banche centrali tra fed e bce che stanno lì per stabilizzare il cambio il più possibile quindi non stiamo parlando della lira turca del rial brasiliano quindi è un cambio che tutto sommato viene regolato dalle dalle banche centrali e veniamo al nostro amico bitcoin anzi prima due parole sull'obbligazionario l'obbligazionario rimane continua ad essere lì qui prendiamo il super mega calderone di tutto l'obbligazionario c'è poco da dire cioè con i tassi con i tassi così che che rimangono che rimangono fermi è interessante nel senso che adesso accedere al mercato obbligazionario da dei rendimenti prima non li dava oggi da dei rendimenti quindi va bene anche se i tassi dovessero rimanere così perfetto l'obbligazione vi dà delle cedole ok quindi anche se rimanessero fermi perfetto i tassi alti non è che con l'obbligazionario guarda guadagnate solo se si abbassano i tassi adesso guadagnate anche se i tassi rimangono rimangono fermi perché ci sono dentro le cedole video questa notizia incredibile l'obbligazionario vi dà dentro delle cedole bene e basta nell'obbligazionario ancora no ne voglio parlare alla volta nelle volte prossime sulle yield perché me lo chiedete in tanti delle delle yield quindi alto rendimento le obbligazioni ad alto rendimento attenzione perché sono interessanti sono molto correlate chiaramente col mercato azionario quindi decorrellano poco il portafoglio ma non sono ancora così interessanti come potrebbero essere quando si allargano gli spread attenzione che i yield sentono di più l'allargamento degli spread piuttosto che i tassi interesse perché nella cedola la cedola del del della yield è soprattutto premio per il rischio e non premio per il tasso di interesse ok non c'è meno componente tasso e più componente premio per il rischio perché sono i yield lasciate stare le yield singole lasciatele proprio stare non venite a piangere se vi fate male con le il singole perché è come se vi mettete a giocare con le granate in mezzo a un campo di grano a bella questa granata si bella la granata ma se non le sapete usare vi fate del male da approcciare assolutamente con gli etf non mi venite a dire a ma ama quello ama quell'altro chiunque vi dica il contrario deve deve essere messo deve andare in galera deve andare in una galera finanziaria se ci fosse una galera finanziaria dovete mettervi andrebbe messo dentro va bene detto questo andiamo a vedere di bitcoin perché bitcoin c'è stato anche qui ditemelo voi io non voglio io non niente settimana scorsa ditelo voi ditelo voi settimana scorsa allora bitcoin ha fatto un minimo a 59 7 99 riassorbito in meno di due test riassorbito immediatamente tornato sopra 60 mila io non dico se no ma dici fai io non dico niente ditemelo voi poi io poi lo chiediamo al dottor zani siamo siamo ritornati a 65 mila dollari c'è stato l'albing stupendo ragazzi quando la gente guarda sempre dalla parte opposta i media vi fanno guardare sempre dalla parte tutti hanno parlato di albing c'era addirittura su coin market cap il sito di riferimento delle cripto il countdown all'albing c'è tutti come se fosse che ne so l'eclissi l'eclissi solare che tutti che succederà con l'eclissi tutti a guardare l'eclissi finisce l'eclissi dai adesso vai a lavorare la torna a lavorare che l'eclissi è finita è la stessa è incredibile è la stessa cosa ci stanno vanno detto che con l'albing facendo un sacco c'è la gente che ha comprato bitcoin adesso perché dice sa avvicina l'albing e con l'albing guadagno un sacco di soldi no no fermi fermi tutti fermi tutti e come quello che si licenza dal lavoro perché dice adesso c'è l'eclissi solari con l'eclissi solari finisce il mondo finisce tutte le licenze dal lavoro poi c'è l'aspetti l'eclissi guardi l'eclissi dura tre minuti e poi vedi il mondo che va avanti c'era adesso ma trovate un altro lavoro che non è quello che t'hanno detto per accumulare bitcoin qualcuno ma tu hai accumulato bitcoin adesso stai accumulando a 59 no io l'ultimo acquisto del bitcoin l'ho fatto qua sotto l'ho fatto a sedia di 16 16 più o meno 18 qua sotto fatto l'ultimo acquisto fine cioè da qui a qui non ho acquistato più neanche un un unghia di bitcoin zero ma neanche per sbaglio basta quella posizione l'ho costruita fine l'ho dovuto ribila l'ho dovuto aggiungere in portafoglio no perché poi è cresciuto quindi non ho dovuto aggiungere aggiunto aggiunto ho ribilanciato altri asset va bene poi chi oggi deve iniziare vabbè c'è nella nella torta se dovete fare la torta al cioccolato e bitcoin nel cioccolato c'è uno dice ce lo metto lo compro bitcoin beh se devi fare la torta al cioccolato senza cioccolato è un problema farla quindi se nella tua pianificazione nel tuo orizzonte temporale è giustificato nella tua tolleranza al rischio è giustificato un 2 3 per cento 5 per cento di bitcoin dico numeri a caso va bene e ma i prezzi del cioccolato stanno alti è uguale ce lo devi mettere e non se ci faceva fai la dolta al cioccolato senza cioccolato che schifo fai fa schifo la dolta al cioccolato senza cioccolato quindi ce lo devi mettere e ma costa tanto è uguale iniziato oggi metticelo appunto poi se poi scende lo accumuli lo ribilanci ok bene detto questo con l'albing che cosa allora cerchiamo di capire un attimo il concetto di albing perché questo sfugge a tanti e boh sinceramente mi sono rotto le bolsi sentire tanta ignoranza allora il problema di bitcoin è che mette insieme competenze cioè per comprendere bitcoin bisogna mettere insieme componenti aree di conoscenza finanziaria conoscenza di crittografia conoscenza di macroeconomia perché bisogna capire il concetto di di inflazione conoscenza di psicologia del mercato conoscenza di domanda offerta e poi nell'utilizzo di bitcoin bisogna conoscere tema della gestione del rischio perché altrimenti è un casino quindi comprenderlo davvero mette io direi anche avere delle conoscenze di storia economica perché comprenderlo veramente capisco capisco che è difficile lo comprende probabilmente ci vogliono mesi per capire veramente che cosa ciò mesi di studiare da fu da fonti giuste se sentite quei fuffari che girano su su internet veramente sarebbero da 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 mettervi dentro quando io sento dire bitcoin però bitcoin non è un mezzo di pagamento mi sale il sangue al cervello talmente tanto ma tu ma tu che dici vi metti vicino bitcoin e mezzo di pagamento ma tu devi non devi neanche di mezza parola devi andare fa fa alt vai vai a fare cambia lavoro cambia non puoi parlare di finanza è come se che ne so un ingegno io mi mettessi a parlare di cucina no però per fare per fare la la panna quella panna devi prendere ascoltare sarà parlare finanza perché le cucina giusto infatti non parlo di cucina se non mi ogni tanto mi lancio in qualche metafora per farvi capire bene ok ho provato a fare una mimosa però da fare ragazzi è schifo proprio da fa veramente ma è rimasta solo la crema rimasta va bene detto questo un casino atomico prima ultima volta mi metto ai fornelli va bene detto questo bitcoin intanto non è toglietevi dalla testa che è un mezzo di pagamento perché non è un mezzo di pagamento bitcoin o meglio quanti di voi siamo siamo bravi quanti di voi nell'ultimo anno hanno pagato il caffè al bar in lingotti d'oro o in monete d'oro diremi quanti di voi hanno nell'ultimo anno rimango a largo negli ultimi cinque anni facciamo così negli ultimi cinque anni quanti di voi hanno pagato il bar al caffè al bar il lingotti d'oro dai nessuno nessuno se uno paga il caffè al bar con lingotto d'oro chiamano la polizia e l'arrestano tu sei matto lo mettono dentro lo mettono al cim lo mandano bene quando pensate a bitcoin dovete pensare a un lingotto d'oro l'oro non è un mezzo di pagamento bitcoin non è e non sarà mai un mezzo di pagamento ma mai ve lo scrivo ve lo sottoscrivo lo dico da anni lo diciamo cioè chi ha capito bitcoin che cos'è dice bitcoin non è un mezzo di pagamento e non lo sarà mai non deve esserlo come l'oro non deve essere un mezzo di pagamento ma ce l'ha valore l'oro certo che c'è un valore dato da chi chi lo chi lo sta comprando che gli dà quel valore lì bene scordatevi bitcoin come mezzo di pagamento il successo di bitcoin non è dato da se sarà o no un mezzo di pagamento se andate al bar a pagare il caffè con bitcoin perché non è quello il successo di bitcoin ci sarà nel momento in cui o c'è nel momento in cui c'è domanda le persone lo vogliono le persone lo vogliono prendere per mettercelo da parte come loro perché prendete loro perché comprate loro lo mettete da parte anche con le tf e tutto quanto perché è scarso perché più ne estrai più ne straggono più diventa difficile costosa l'estrazione perché diminuiscono i giacimenti delle miniere d'oro perché sbrilluccica anche quello è un valore perché ce l'hanno anche i governi ce l'hanno lo comprano fermano lo fermano lì perché è una è una riserva di valore attenzione non mi confondete bene rifugio con il con riserva di valore bene il rifugio vuol dire tutto non vuol dire niente via parte bitcoin è la stessa cosa è scarso più ne estraggono più diventa difficile le stra più difficile costosa l'estrazione e ha un'inflazione controllata che vuol dire che ha un'inflazione controllata l'inflazione controllata di bitcoin vuol dire che anche a differenza dell'oro è perché loro non ha un'inflazione controllata attenzione questi questo è un confronto importante qui è un'inflazione su bitcoin è un'inflazione matematica deterministica che vuol dire e qui mi riallaccio all'albing mi riallaccio con l'albing che è successo ieri notte si è dimezzata all'inflazione di bitcoin ok inflazione di bitcoin che cosa vuol dire vuol dire che l'estrazione di bitcoin la ricompensa per chi ma immagina di minor con chi prende la della la pala la il piccone e va estrarre loro ci sono i minor che estraggono loro dalla dalla notte scorsa i minor che prima venivano retribuiti per la creazione di un blocco della block cene quindi per validare per far funzionare la block chain venivano retribuiti 6,25 bitcoin da dalla notte scorsa vengono retribuiti 3,125 bitcoin il che vuol dire che l'estrazione di bitcoin giornaliera passa da 900 a 450 bitcoin questo vuol dire che l'inflazione di bitcoin è passata da circa l'uno e 73 anzi è arrivata all'uno e 73 per cento ma scusate era l'uno scusate era l'uno e 73 per cento è scesa allo 0 86 per cento ok ora qui non è questione di essere d'accordo non essere d'accordo meglio uno nella propria testa può pensare quello che vuole ma rimaniamo sul dato perché poi l'italiano da un tifoso bitcoin sia no bitcoin no si no si no ma quello quello quella ci piace voi dovete mettervi in testa un dato dovete mettervi in testa e basta poi non sentire più le puttanate che raccontano in giro inflazione l'inflazione giornaliera di bitcoin è passata da 900 a 450 quindi ogni giorno si aggiungono 450 bitcoin tra quattro anni si dimezzerà ancora di più se si dimezza un'altra volta questa è l'offerta di bitcoin cioè ogni giorno l'offerta di bitcoin lo stock di bitcoin in circolazione aumenta di 450 bitcoin circa attenzione perché i bitcoin in circolazione nel frattempo le persone se li perdono le persone li prendono li mettono lì e non li muovono più quindi lo stock di offerta disponibile sul mercato probabilmente già sta iniziando a diminuire perché 450 vengono creati vengono aggiunti ma tra quelli che volete che non si perdono 450 bitcoin al giorno tra tutte le transazioni quindi questa è l'offerta di bitcoin immettere creare nuovi bitcoin aggiunge offerta questa è l'inflazione inflazione non è l'aumento dei prezzi porca eva l'inflazione quando la banca centrale stampa soldi quella inflazione che poi la conseguenza dell'inflazione è l'aumento dei prezzi ma è una conseguenza l'inflazione è la stampa di moneta su bitcoin l'inflazione è la creazione di nuovi bitcoin quindi l'inflazione di bitcoin diminuisce c'è ancora inflazione e attenzione non è non è un'inflazione negativa è un'inflazione che diminuisce e è sempre quella il problema delle materie prime qual è il problema della moneta che viene stampata in continuazione e va bene il problema delle materie prime qual è che quando aumenta la quando aumenta la domanda aumentano i prezzi e quando aumentano i prezzi i produttori aumentano l'offerta e quindi si crea si creano più un quantitativo maggiore di materia prima che poi fa scendere i prezzi di qua no perché se aumentano i prezzi dall'altra parte non aumenta l'offerta di bitcoin perché l'offerta di bitcoin è deterministica anche con l'oro quando aumentano i prezzi dell'oro adesso chi ha le miniere d'oro comincia a creare più a estrarre più oro perché riaprono le miniere cioè ci sono tanti giacimenti tante miniere di di oro che le chi quando i prezzi scendono sotto certi livelli non gli conviene più estrarlo quell'oro le chiudono quando i prezzi salgono le riaprono per produrre più oro e mettono più oro sul mercato quindi anche lì la creazione di oro non è stabile varia in base ai prezzi dell'oro qui invece abbiamo un'offerta di bitcoin che è deterministica data da una formula matematica a un certo punto quando massimo di bitcoin sono 21 milioni il no oltre il 90 per cento è stato già creato quindi a un certo punto arriverà se non è già arrivato un momento in cui l'offerta di bitcoin scenderà quindi bitcoin in circolazione diminuiranno perché la gente se li perde si perde gli accessi le passano le cose c'è chi li li prende li stocca non li muove più quindi il prezzo di bitcoin è dato solo ed esclusivamente da da che ce l'abbiamo fatta dalla domanda la domanda fa il prezzo di bitcoin in questo momento e la domanda è vista come chi è interessato a comprare a prendere mettersi anche un cavolo di bitcoin e fermo lì sul portafoglio e allora do e lì caddy wood è un cazzo è un fottuto è una fottuta geniesa è un fottuto genio caddy wood perché è un genio perché lei dice ma se i governi iniziano a comprare bitcoin se i fondi di investimento iniziano a comprare bitcoin e per raggiungere la frontiera efficiente devono mettere il 3 4 5 per cento di bitcoin in tutti loro nella maggior parte dei fondi se le aziende capiscono delle come fasi lo masche che non è un imbecille lo masche si è preso un 5 per cento di liquidità e se l'è messa in bitcoin se lo fanno anche altre e aumentano la domanda il prezzo di bitcoin dove può arrivare non lo sa nessuno dove può arrivare ma di sicuro se c'è domanda con l'offerta che è incagliata con l'offerta che è sempre quella non lo so dove può arrivare ok però questo è l'unico dato che vi dovete mettere in testa velo stampate e tutto quello che dicono fuori non conta assolutamente niente il fatto che ci sia stato l'alving ieri non sposta niente non cambia niente in questo momento l'alving vuol dire che vuol dire l'alving l'alving vuol dire che l'offerta della creazione di bitcoin giornaliera si è dimezzata quindi c'è uno c'è un'immissione di bitcoin sul mercato che è più bassa ok ma non vuol dire non vuol dire che i prezzi salgono il prezzo è dato dalla domanda tendenzialmente visto che c'è ancora domanda e c'è potenziale di domanda nel lungo termine dovrebbero salire attenzione voi dovete essere bravi però a mettere bitcoin in maniera coerente con i vostri obiettivi di vita orizzonti temporali e tolleranza rischio perché se quando se voi non siete pronti quando bitcoin scende qui voi ve lo vendete qui se la in tanti se lo sono venduto in perdita qui è stato un bagno di sangue è stato perché se i prezzi sono scesi sono scesi perché la gente vendeva in perdita ok voi dovete essere pronti a te a ad accettare l'oscillo se voi mettete tutto il portafoglio in bitcoin al primo meno 10 meno 15 meno 20 come è successo vendete in perdita vendete perché non ce la fate a vedere quelle oscillazioni lì quindi poi li entrano le dinamiche di gestione del rischio che uno chiaramente deve deve conoscere anche qui in una in uno strumento che vi permette di andare a 300 chilometri orari in autostrada o vi fate seguire da un professionista oppure rischiate di schiantare fate vobis va bene tutto il resto ma ce l'ha adesso quella gente ma adesso c'è l'alving i prezzi l'alving abbiamo detto è l'inflazione di bitcoin è che è stata dimezzata offerta dimezzata adesso bisogna vedere la domanda è sempre questione di domanda e vederla nel lungo ok questo signore psicologia del allora è ma macroeconomia un po di storia economica e soprattutto psicologia di mercato anche mettete insieme tutto mercati finanziari eccetera e vedete e vedete un po arrivate alle vostre conclusioni potete pensarla diversamente e io rispetto ogni opinione ma la realtà è questa cioè nel senso l'inflazione di bitcoin è questa è una matematica è una formula matematica quindi non leggo i commenti se il nome è ma veleno quindi non li vado a leggere però non non è questione di ma è ma è ma qui è ma lì è ma lì è ma di su è ma di giù no non c'è è ma non c'è nessuno è ma non ci potrà essere mai nessuno è ma qui c'è soltanto psicologia di chi non l'ha comprato ha perso il treno e allora deve dire no deve trovare deve giustificare qualcosa per cui non l'hanno non l'ha comprato che per quanto può essere comprato anche adesso se voi lo ragionate in quest'ottica qui bitcoin comprarlo a 60 mila comprarlo a 50 mila comprarlo a 20 mila comprarlo a 30 mila comprarlo a 15 mila non cambia niente non cambia che cambia niente avete capito l'asset se avete capito l'asset e rivedete questo passaggio perché se rivedete questo passaggio c'è tutto quanto quello che vi serve una volta rivisto questo passaggio qui avete compreso l'asset si tratta semplicemente di capire la grammatura di bitcoin come fosse il cioccolato perché volete mettere nella vostra torta non potenzione non potete fare una torta di tutto cioccolato perché sennò fa schifo quindi la grammatura di cioccolato da mettere nella torta sapete farlo da soli ci riuscite da soli io non lo so da soli le persone fanno casino quindi io il consiglio che vi posso dare proprio spassionato fatevi seguire un consulente finanziario perché è una tematica delicata ragazzi non potete lanciarvi a 300 chilometri orari se non sapete guidare la macchina o se pensate di saper guidare la macchina perché se voi pensate di saper guidare la macchina bilanciata a 300 chilometri orari e non siete in grado di nella realtà non siete in grado di guidarla quella macchina 300 chilometri orari che voi pensiate di saperla guidare a 300 chilometri orari non cambia la realtà che non sapete guidarla e quindi poi alla prima curva vi schiantate e quando vi siete schiantate avete distrutto la macchina avete distrutto la strada avete distrutto vostro fisico quindi il vostro portafoglio e avete distrutto la possibilità di continuare a guidare quella macchina ok quindi anche qui fatevi seguire ma tu devi il servizio di consulenza il servizio di consulenza è nel vostro interesse è nell'interesse del cliente la parcella che pagate è come l'avvocato ma che fai mi vendi il servizio legale serve a te l'avvocato non serve all'avvocato cioè l'avvocato risolve il problema che voi avete un problema della finanza che le persone non sanno di avere il problema pensano di poter far da soli quando invece è oggettivamente difficile far da soli anche perché immagino che facciate altri lavori non siete non dovete star tutto il giorno a guardare a guardare i mercati perché non serve quello che vostro tempo e fate altri lavori siete liberi professionisti impiegati manager imprenditori quanto vale il vostro lavoro non potete perderlo a guardare i mercati fatelo fatelo fare un professionista che lo guarda ma tutto quanto vi eseguita bene partite da un'analisi gratuita e poi vi fate una chiacchierata di un'ora e capite il valore che potete raggiungere anche lì tanti alcuni stanno arrivando clienti che avevano altri consulenti indipendenti anche lì nella scelta del consulente ma secondo voi cambia qualcosa 100 euro in più e meno di parcella vi fate eseguire da un consulente singolo ma come fa a seguire come fa a per tutte le temati come fa a stare dietro a tutto non ce la fa poi fa da fai danni e poi venite da noi a rimetterli a posto venite prima direttamente da noi abbiamo più di 3.000 clienti abbiamo una struttura abbiamo un'azienda in grado di sopportare più ancora di più i 3.000 clienti di seguire più di abbiamo tutti i consulenti specializzati che in una cosa che in un'altra quindi anche lì in base alla vostra situazione viene dato il consulente più adatto per la vostra situazione basta non dico altro il link lo trovate in descrizione ragazzi oppure ve lo rimetto ve lo rimetto in chat ok non volete farvi seguire dal consulente studiate potete studiare a youtube volete studiare le basi sì e poi il dettaglio sempre sotto in descrizione trovate link per i master dei nostri master libertà finanziaria piuttosto che per diventare consulenti piuttosto che per imparare il trading multiday che nel trading multiday imparate le dinamiche di domanda e offerta queste dinamiche qui dovete capirle la psicologia di mercato domande offerte se non le capite ma come fate ad applicarle ma dovete capirle veramente ok basta mi taccio se no poi l'italiano medio poi si lamenta che diamo l'analisi gratuita del portafoglio ok detto questo su bitcoin attenzione ragazzi grande opportunità ma dovete saperla dovete saperla cogliere quindi in tutto questo vi faccio vi faccio vedere una statistica faccio vedere vi faccio vedere questa statistica qui ok albing di bitcoin quello che fa l'albing dopo quello che ha fatto sì scusate quello che ha fatto bitcoin dopo i precedenti albing nei 30 giorni successivi alla visto che la gente compra che dice a con l'albing si guadagna un sacco di soldi fermi nei precedenti albing e non è che ce ne sono stati tanti perché ogni quattro anni questo l'albing e 2012 2016 2000 2020 in due occasioni ha fatto il 10 il 15 per cento in quello del 2020 e in quello del 2012 nel 2016 ha perso il 10 per cento ha fatto un picco anche a meno 20 quindi vedete che storicamente è vero che ci sono stati soltanto tre tre altre volte statisticamente non valgono niente non valgono chiaramente però se uno ha un po di sale in zucca invece di ascoltare le storielle le favolette che vi raccontano va a guardarsi due dati va a guardarsi due numeri va bene vi raccontano la favoletta che con l'albing guadagnerete un sacco di soldi quindi avete tutti comprato bitcoin a 70 mila pensando di diventare milionari adesso dopo l'albing quindi entro entro la fine di maggio per pagarvi le vacanze la verità è che dopo l'albing di bitcoin il mese successivo i prezzi bitcoin sono lì non si sono mai mossi più di tanto più 10 più 15 meno 10 con un picco a meno 20 se vedete adesso meno 20 sul portafoglio e avete comprato troppi bitcoin senza aver pianificato senza avere un portafoglio corretto meno 20 vendete in perdita meno 20 non ci dormite la notte meno 20 e vi dovete prendere la malattia al lavoro se non l'avete pesato bene ok quindi questo mi raccomando ragazzi è importante e qui chiudo sul sul bitcoin perché poi quando arriverà dove deve arrivare peserà genere però è ma è ma su ma giù va bene poi come sempre ognuno fa quello che vuole con i propri soldi vi faccio vedere anche quest'altra statistica con invece vi avevo detto che vi avrei fatto vedere qualche dato bitcoin s&p 500 è sceso del 5 per cento e niente questo qui è il massimo è ridicolo sembra sembra un obbligazionario a breve scadenza sembra se vedete la l'andamento del drawdown cioè da inizio anno il massimo che aveva fatto era un meno 2 meno 2 da inizio anno inizio anno neanche un btp si muove così poco adesso è arrivato a meno 5 ma ci dice nemmeno sì vabbè meno 5 lo fa due tre volte all'anno lo fa sempre meno 5 il massimo il il massimo drawdown e medio annuale è del 14 2 massimo drawdown medio quindi mediamente ogni anno la sempre 500 ma almeno 14 quindi nel senso ancora hanno tanti ma adesso il momento di entrare meno 2 la gente già da meno 2 a compro meno 2 ha fatto meno meno 5 dio adesso che faccio incremento fermi attenzione cioè distribuitele bene perché meno 14 meno 15 meno 20 mercato azionario non è niente lo fa lo fa dovete conoscere la bestia dovete conoscere la bestia azionaria soprattutto la s&p lo fa sono movimenti sono movimenti che fa va bene detto questo detto questo cari ragazzotti volevo volevo farvi una piccola riflessione volevo farvi una piccola riflessione su vado a me lo prendere su invidia no perché perché hanno hanno serrato le fila anche su invidia o allora non dividiamo qui allora questo qui invidia quando è urco meno meno di meno 10 meno 10 venerdì chi è che segue il master c'è qualche sicuramente c'è qualcuno che segue il master di che stanno che state facendo con me che stanno facendo come i ragazzi sul trading mi cacciassero un occhio adesso se al master non vi ho detto che eravamo qui mi cacciasse un occhio se non vi se non vi ho detto invidia poi chiaramente sempre gestione del rischio tutto perché le statistiche lo sapete ne sbaglio una su due quindi poi tutta gestione del rischio mi cacciassero un occhio se non vi ho detto che qui invidia io personalmente la 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 avrei scioltata con tutte le scarpe e l'ho scioltata perché già mi sono preso tutto tutta la remunerazione del rischio quindi già operazione diciamo che non neanche l'avevo visto aveva fatto meno 10 direi che ci siamo già che ci siamo già quasi psicologia del mercato qui arriviamo arriviamo sulle dinamiche psicologiche di mercato perché sono quelle che governano i mercati non potete operare fare trading non potete investire se non comprendete prima le dinamiche della psicologia di domanda e offerta che è quella che regola tutto e poi mi potete dire gli algoritmi ma è gli algoritmi o no finché c'è chi compra e chi vende i prezzi vengono fatti dalla domanda e dall'offerta bene detto questo tema invidia parlato con un po di persone più o meno più o meno qui di cui persone che non chiaramente non sanno di finanza che dico ah potevo comprare invidia se avessi comprato invidia no adesso tu che dici adesso che invidia è arrivata 800 mi conviene comprarla quando senti la persona della strada che parla di uno strumento finanziario è il momento di venderlo bene io non lo so quello che succederà invidia chiaramente non lo può non lo può sapere nessuno non può sapere il punto è questo che oggi invidia o meglio qualche settimana fa invidia già iniziamo a rientrare veniva scambiata a 40 volte il fatturato cioè comprando invidia anche comprandola oggi la state comprando e parlo del tema invidia perché è un tema sentito delle persone lo vorrebbero comprare la state pagando 31 volte il fatturato cioè pagare invidia 31 volte il fatturato è come facciamo ma si più o meno 31 31 virgola 2 facciamo il conto proprio riuscito 31 virgola due volte è imbarazzante è come è come comprare oggi la io investi cf anzi comprare la io investi cf a fine anno a 234 milioni io capisco la stima che ci avete in invidia le cose le lecce la i e quello che vi pare ma qualsiasi azienda del pagare una qualsiasi azienda 31 volte il fatturato è follia se oggi se oggi mi venite qui mi date i duecentotrenta milioni per la io investi cf io ve la impacchetto ci metto guarda ci metto pure un fiocchettino sopra nel senso che è follia pura considerando che il ps medio dell's&p 500 è di quanto due tre volte l'avevamo visto l'altra volta che esageriamo tre volte cioè le azienda media dell's&p 500 viene prezzata tre esagerare tre volte il fatturato invidia viene viene scambiata a 31 volte il fatturato capite che è follia poi anche qui a 456 veniva scambiata 45 volte il fatturato e f era follia poi se aumenti il fatturato chiaramente qui vedete che i prezzi lateralizzano la valutazione scende perché perché nel frattempo ha aumentato il fatturato ma di quanto puoi puoi aumentare il fatturato nel breve termine e infatti noi l'ultimo rialzo era proprio la 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 il parco buoi venite vengono 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 signori che adesso serriamo le fila e vi tritiamo a tutti adesso che succede quindi pagare un'azienda 31 è vero la i tutto quanto i ship le cose ma attenzione che c'è la concorrenza quando un'azienda viene scambiata a 30 volte fatturato 40 volte il fatturato questo profilo d'azienda grotta e le aziende grotta vengono polverizzate cioè a livello di valutazione nel momento in cui iniziano a mancare le attese di crescita il mercato i prezzi oggi di oggi di invidia stanno scontando un tasso di crescita dell'azienda a livelli clamorosi che per carità ce la potrebbe fare ma se poco poco qualche competitor e di competitor credo che ne abbia se qualche competitor inizia a fare i ship meglio di invidia con una tecnologia meglio di invidia con un processo produttivo migliore di invidia e se il fatturato di invidia inizia ad entrare in difficoltà o se poco poco cambia il mercato rispetto a quelle che sono le attese il che è molto probabile e quando avete aspettative altissime su un'azienda quando le aspettative sono tanto tirate e mancarle è un attimo questi titoli qui che che sono tutti comprati dalla massa alla fine perché l'ultima botta se l'ha fatta proprio la massa che l'ha tirati su iniettate di liquidità che incredibili questi titoli vengono giù come le perecotte classico profilo grotta invidia sia una bella società una bella azienda d'accordo siamo tutti d'accordo va bene però attenzione comprare invidia qui è da matti è da ma ti perché la state pagando 31 volte il fatturato che quindi io qui io io ve lo anticipo queste qui anche sono dinamiche di domande offerta se volete capire queste domande queste dinamiche qui domande offerta venite 23 24 22 no scusate 23 24 aprile martedì mercoledì prossimo parliamo proprio di operatività su singole azioni di lungo termine valutazioni queste cose qui che sono ve le portate dietro per sempre ve le portate dietro non è il metodino partecipate gratis l'iniziativa è gratuita si chiama trader part time vi metto il link ve lo rimetto in chat oppure lo trovate sotto in descrizione partecipate gratis a ma fare le marchette è gratis non pagare niente non pagate che venite live siamo live saremo live mi fate le tutte le domande del caso parleremo proprio di questo parleremo del perché invidia è da matti comprare e perché c'è un'azienda invece che tutti stanno vendendo io stanno vendendo notizie notizie negative nessuno la vuole ma è una è un'azienda atomica che è l'opposto di invidia proprio l'opposto tutti guardano invidia tutti vendono quest'altra c'è qualcosa che è invidia praticamente invidia qua giù è più o meno la scopriamo martedì sera alle 21 la scopriamo cioè ve la faccio proprio vedere ve la compro anche in diretta ve la compro ok detto questo per per dirvi ok quindi attenzione per spiega per spiegarvi questo perché adesso se no io lo so che tutti che volete invidia e allora di fermi tutti tra l'altro vi faccio vi faccio vedere anche live vi faccio vedere che la sorta faccio vedere proprio l'ordine l'ordine di vendita e così almeno la vedete e non è che diciamo alla shortata finata fino ad oggi no primo primo sciolta nel altro non sciolto mai il mercato ma invidia quassù ragazzi proprio va bene anche perché che succede e concludo con le dinamiche della della psicologia di mercato tutti quelli che hanno comprato invidia tutti quelli che hanno comprato invidia alzino la mano perfetto bravo tutti invidia to the moon to the moon perché l'intelligenza artificiale perché di qua perché di là senza guardare un indicatore becero semplice perché la cosa più semplice che uno può guardare se mi compri un titolo a 40 volte il fatturato o ci fai o ci stai facendo trading quindi un'attività speculativa o se te lo stai comprando per il lungo termine sei matto da legare ti può andare bene una volta ma la maggior parte delle volte di schianti ora tutti quelli che l'hanno comprata qua tutti quelli che l'hanno comprata qua sopra sono tanti adesso battono i denti oddio sbagliato ma non è che ma se ho sbagliato adesso arriva a 4 e allora inizia a fare i conti ma se arriva qua sotto quanto perdo perché prima è quant'è che divento quant'è che compro la lambo quindi invece dei giorni all'albing dicono giorni alla lambo manca un mese alla lambo mancano due mesi alla lambo mancano tre mesi alla lambo adesso iniziano aspetta prima della lambo fammi vedere quanto manca bruciarmi il conto adesso manca un 10 per cento al margin call manca un 20 per cento a dove andare a lavorare ok quindi la dinamica psicologica cambia e finché i prezzi salgono stabili come è successo qui c'è fiducia e la gente continua a comprare continuate sporsi a bella l'invida di qua arriverà farà destra sinistra non guarda nient'altro ora che i prezzi scendono tutti quelli che hanno comprato in fiducia la psicologia si ribalta si stanno si iniziano a leccare le ferite e iniziano a pensare no ho sbagliato invidia non sarà il futuro perché quello scemo d'alessandro mi ha detto guarda che sta a pagare l'azienda 31 volte il fatturato sarà che mi sono sbagliato? sarà che magari inizia a scende sarà che la lambo non me la compro neanche stavolta e così iniziano a prendere i rimbalzi per venderla e cambia la dinamica di mercato da una dinamica rialzista andiamo in una dinamica ribassista poi può essere di breve di medio questo non lo sappiamo chiaramente ok quando il titolo fa meno 10 che non l'aveva mai fatto di meno 10 negli ultimi non so quanti quanti mesi tutte le persone l'hanno comprato non abituate a vedere meno 10 adesso urco meno 10 cavolo che botta e inizieranno a dire eh il mercato è manipolato eh ma di qua eh ma quando rimbalza ma tu che ne pensi ma tornerà su ma tornerà giù iniziano a inizia a stringere e iniziano a voler vendere i compratori che vogliono vendere è offerta va bene senza pensare a tutti quelli che l'hanno magari l'hanno presa a leva l'hanno presa perché c'è anche chi la prende a margine se la prendi a margine qui è peggio ancora perché iniziano a saltare gli stop arrivano i margin call conti bruciati quindi qua un'accelerazione così è data anche da una qua sono saltati i conti sono saltati ok va bene io questo ve l'ho detto 09 e 48 ammazza quanto parlo ragazzi vado i commenti vado perché così almeno ci facciamo un bel giro di domande di domande risposte siamo arrivati quasi a 500 persone live bene benissimo allora non ho voluto leggere i commenti per la mia sanità mentale eh perché sennò dico faccio ma oggi sono in modalità zen soprattutto quando ho fatto veduta sta roba siamo ritornati a parlare un po' di mercati un po' di singoli un po' di singoli titoli la mia materia preferita e e beh bello 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 poi mi rilasso mi sciolgo e adesso mi metto a commentare a leggere a rispondere i commenti perché sono curioso sempre sempre la solita minestra sono curioso di vedere è gli emma adesso dovrei scriverci un libro con tutti gli emma delle persone perché è bello come riuscire sempre a decontestualizzare qualsiasi cosa non ho letto niente non ho letto nessun commento ma mi preparo credo che l'italiano sia sia proprio un maestro nel nel decontestualizzare adesso mi aspetto tipo che è ma diversi è ma è ma è ma è ma è ma è ma il bitcoin è ma è ma stato a shinakamoto chi è ma non lo copro perché è stato a shinakamoto no è ma invidia è ma di cosa bello 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 ok va bene poi alla fine il bello della finanza è che conta quanto guadagni quando c'è ragione quanto perdi quando hai torto e va bene allora ok che fatica c'ho paura i commenti li leggo volete che li leggo i commenti oggi tra l'altro non prendiamo le telefonate settimana prossima ricominciamo con le telefonate rendiamo epica questa episodio 97 della colazione finanziaria facciamo cadere qualche capello al dottor zanni che è in vacanza quest'oggi ok allora intanto allora intanto ditemi voglio sapere a se siete svegli perché secondo me ripeto voi la mattela domenica mattina state state in post bronza e lasciate aperta la colazione finanziaria e non rispondete fate finta di seguirla quindi uno ditemi se state seguendo state seguendo oppure no ci siete oppure no che fatica no basta non rispondo silenzio sta silenzio stampa silenzio stampa basta ho due persone sveglie oh ecco qui una due ci sono siamo qui bene no mi preoccupavo è vero che c'è qualche secondo di leg ok dalle 8 e 30 oh eroi eroi dalle 8 e 30 sono al minuto 3 ma vado vado a due per va bene va bene va bene così va bene recuperi sveglio o bravi ci siamo sto aspettando il riversamento a file no 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 oggi ho parlato di ho parlato di mercati mi sono mi sono mi metto le ciabatte mi metto no bello bello mi sono rilassato mi sono rilassato mi piace parlare di mercati è sempre un piacere la colazione finanziaria poi il bello quelli belli sono quelli che vedono la replica il mercoledì martedì il mercoledì che commentano quelli su quelli sono i più belli ci sia bravi ci siete allora hai asfaltato tutti i fuffacuro di bitcoin no beh anche lì o mi fanno dei fantamiliardi che fanno con tutte le supercazzole che vi raccontano la teoria dietro è semplice di bitcoin cioè semplice in realtà non è semplice però una volta capita è semplice va bene per a per claudio siamo live su più canali claudio siamo live su più canali quindi anche lì potete dipende in quale che da quale canale state vedendo e qualcuno scrive da una parte qualcuno scrive dall'altra dipende dove dove state vedendo va bene cantaci una canzone no meglio meglio che non la canta va bene ok visto che ci siamo possiamo andare a rispondere a qualche commento prendiamo qualche commento se avete qualche domanda da fare un po più più che più che osservazioni che poi mi mi fate avvelenare no se avete qualche domanda un po più articolata fatela che magari ve la rispondo ve la rispondo adesso tutto il resto io ripeto sui singoli se volete veramente imparare le dinamiche di mercato eccetera intanto venite live martedì e mercoledì perché ci facciamo due belle giornate e non ci sono le registrazioni, quindi martedì e mercoledì sera dovete venire alle 21 per partecipare non è pubblica la live trovate il link in descrizione trader part time, anzi ve lo rimetto anche qui in chat venite che ci siamo insomma, parliamo di singoli titoli psicologia del mercato, le mie strategie un po' più nel dettaglio eccetera niente formule magiche, niente formule magiche niente quella roba lì che non esiste vediamo proprio il trading comunque operatività su azioni, quella vera ok vado vado voglio partire, ne ho preso una a caso nella mischia prendiamo il commento di Anthony nella mischia qualcuno non sa dirmi qualcosa ma è certo che sappiamo dirti qualcosa sugli etf obbligazionari a scadenza in particolare se ci sono obbligazioni statali allora, sì io ringrazio voglio fare una statua voglio fare una statua a black rock qui però bisogna un monumento perché così almeno abbiamo ci ha aiutato a come dire a debellare tutti gli amanti della scadenza dell'obbligazione che è una piaga di cui voglio liberarmi anche lì il più possibile il prima possibile che è una roba completamente inutile che vi fa soltanto esporre più rischi di concentrazione di rischio su singoli emittenti etf obbligazionario a scadenza che vuol dire l'etf non scade va bene se pianifichi correttamente non è un problema comunque cioè è un problema l'etf che non scade quando non sai quello che stai facendo è come dire ma la macchina non c'ha la macchina arriva non c'è il limitatore sì non c'è il limitatore ma se la sai guidare non è un problema ok perfetto hanno fatto quindi blackrock stufo di questo ha detto ok ve lo faccio io l'etf vi faccio l'etf obbligazionario che scade è una scadenza 2028 2026 hanno fatto un po' di scadenze diverse sono gli i bond i bond quindi sono etf quindi panieri di obbligazioni che a un certo momento ad una data precisa dicembre 2028 scadono è come quindi se fosse una singola obbligazione soltanto che a un pacchetto di obbligazioni con una scadenza tutta uguale adesso voi mi dite conviene comprare tante singole obbligazioni o l'etf obbligazionario con la scadenza al netto che a me la scadenza non piace cioè io li voglio aperti li voglio comunque se devo fare se proprio mi dici no io voglio la scadenza perché se no mi sento male perfetto va bene netta ma proprio 6060 etf obbligazionario a scadenza perché con un singolo acquisto vi mettete in portafoglio centinaia di obbligazioni con una data di scadenza e eliminate con tutta la concentrazione e l'inefficienza che c'è di comprare tante singole obbligazioni e anche eliminate la complessità di gestione di tante singole obbligazioni bene sui titoli di stato ce ne hanno fatto ce n'è uno sui tre giuri americani se non vado errato ne dovrebbero aver fatto uno sui tre giuri americani non ci dovrebbe essere in Europa sui titoli di stato europei quindi anche lì per adesso più che altro corporate sono più corporate e titoli di stato a meno che non c'è qualche emissione nuova non ci dovrebbero essere i titoli di stato europei però adesso domanda a bruciapelo dovrei andare a verificare sicuramente l'ho visto sui tre giuri perché ci ho fatto un video l'altra questa settimana quindi sicuramente i tre giuri sicuramente i corporate li fanno in due versioni in accumulazione e in distribuzione non mi fate vedere quelli a distribuzione che vi angolavi dagli oremani quindi ovviamente da preferire quelli ad accumulazione rispetto a quelli a distribuzione però ecco non so se ci sono sui singoli titoli titoli obbligazionari titoli di stato europei ok oddio quanto siete ignoranti ma siete proprio ignoranti come una scarpa come una scarpa rotta almeno almeno ma oh che pazienza che pazienza dimmi l'ETF che scala del dicembre del 2028 se c'ha diverse scadenze dai è un'ETF che scada a dicembre del 2028 ma non c'è non è opinabile scada a dicembre del 2028 scada a dicembre del 2028 ma che c'avete nel ah Dio che pazienza ma ce la fate ma chi segue la colazione finanziaria ma lo capite ma capite quello che dico è difficile scusate se no io poi sono costretto mi rendete costretto a rispondervi mannaggia la porca Eva porca ma se io prendo ma se prendete l'ETF che scade mannaggia a voi se prendete l'ETF che scade a dicembre 2028 scade a dicembre 2028 non è opinabile che non scade a dicembre c'ha la scadenza tutta uguale ma che lingua parlo ma vedete l'ignoranza l'ignoranza non è finanziaria è funzionale cioè che non non capiscono ma è dicembre c'è scritto a dicembre 2028 scade a dicembre 2028 cioè sono due parole DEC non è decerebrato è dicembre capite cioè in inglese DECEMBER DECEMBER 2028 Dicembre 2028 è una scadenza è una porca Eva ragazzi che pazienza poi il bello che sono talmente ignoranti che poi poi te devono dirla a chiacchierone ma di che che cosa vai via blocchiamolo così almeno sta zitto sta cioè secondo te devo fare un corso di come funziona le cose in una live in 10 minuti dai vai a sentire gli amichetti tuoi che ti raccontano del BTP va bene se volete se lo volete approfondire c'è la scheda vedete prendete le obbligazioni le prendete una a una andate giù lo guardate lo prendete le prendete le vedete ma non è un problema cioè quello che dovete sapere vedete quando poi andate fuori andate quello che voi dovete sapere dovete sapere che c'è la scadenza qui non sono tutte uguali certo che non sono tutte uguali sono tante sono 327 in questo caso sono tutte uguali 327 obbligazioni e non sono diverse 327 obbligazioni se fosse tutto uguali sarebbe un problema prendete la singola obbligazione se volete farvi il giochino ve la prendete ve la pentete su Google ve la leggete e vedete quello che fa la singola obbligazione ma vi serve no a voi serve l'informazione che scade a dicembre 2028 ok non è superficiale è parlare dell'informazione che realmente serve poi se voi siete nerd che volete stare lì a farvi le seghe sulle quando scade il tasso più guadagno lo 0,02 cioè fate informazione importante che scade a dicembre 2028 una ok bene bene è quello quello che conta realmente poi altre informazioni chiaramente cioè perché trovate che non è un corso sulle obbligazioni si fa un corso sulle obbligazioni perfetto per quanto riguarda Anthony altra domanda di Anthony sei contrario sei contrario agli etf a distribuzione anche a chi va in pensione e vuole integrarla in realtà sì non peraltro perché la distribuzione c'ha un'inefficienza c'ha no che ha l'inefficienza fiscale voi pensate ad un etf ma anche in questo caso corporate sul corporate avete un 26% di tasse quindi se voi prendete 100 di cedola voi incassate in realtà 74 incassate la cedola potete farvela anche da sola da soli se ad accumulazione la cedola vi viene reinvestita dentro non è che la perdete sta dentro sta al prezzo ma invece di prendere 100 di cedola se voi vendete 100 e ve lo mettete in tasca voi pagate la tassazione non su 100 ma sulla plusvalenza che c'è in quell'investimento che avete fatto pensate se ce l'avete in paro vendete prendete la cedola di 100 ve la fate voi prendete 100 intascate 100 perché sta in pari se invece ce l'avete in pari e quello vi paga la cedola vi paga la cedola di 100 ma voi incassate 74 più ce l'avete in profitto in realtà il vantaggio fiscale diminuisce perché andreste a pagare una tassazione sempre più alta perché la quota della plusvalenza diventa sempre più alta ma soprattutto se ce l'avete con profitti minimi quindi con una percentuale di profitto minimo piuttosto che se ce l'avete in pari o se ce l'avete in perdita farvela da soli la cedola quindi vendere se vi serve venderlo da solo è meglio che non prendere la cedola fiscalmente tra l'altro è anche a livello di rigidità nel senso se voi avete quella distribuzione la cedola lo decide l'ETF ma voi potrebbe non servirvi vi paga una cedola di 100 incassate 74 ma voi perdete 100 cioè il valore dell'ETF perde 100 voi intascate 74 ma magari quei 74 non vi servono perché avete la pensione avete altro e dovete reinvestirli ma cavolo avete pagato 100 avete incassato 74 e reinvestite 74 non neanche vi servono eh no ve la potreste far voi quando vi serve mettete un anno non vi servono non dovete andare a prendere soldi dal capitale perfetto avete già reinvestito in automatico quindi è ovviamente nettamente meglio nettamente meglio il è nettamente è meglio è più flessibile l'accumulazione perché hanno fatto la distribuzione gli ETF a distribuzione perché sono stati fatti anche parlando con gli emittenti stessi chiaramente lo sapevamo vengono fatti per marketing chiaramente la persona dice ah bella la cedola rendita passiva fami sell fatela tu la cedola cioè prendila ad accumulazione e poi te la costruisci tu la cedola è fiscalmente più efficiente questa è matematica il numero ok soprattutto se avete l'ETF più o meno se avete l'ETF con un profitto piccolo in pari o addirittura in perdita è proprio questa qui è classica situazione no brain cioè nettamente nettamente meglio non vi espoggia poi non è che vi espone a più rischi perché dice ok devo scegliere un compromesso se mi dà più rischi oppure no quindi magari uno dice no ma l'accumulazione mi dà più rischi allora no preferisco la distribuzione è meno rischiosa cioè è la stessa identica cioè lo strumento è lo stesso il pacchetto è lo stesso uno te dà le cedole e uno le reinveste quindi non vi state non vi state prendendo nessun rischio in più questa è efficienza fiscale a parità è molta più efficienza fiscale quindi nettamente nettamente meglio è una cosa non è non è uno anche qui non è un'opinione no è proprio è oggettivamente meglio perché uno può prenderlo a distribuzione il fatto di prendere la distribuzione è solo psicologico e se uno dice sì vabbè ma io l'unico motivo perché uno dovrebbe prendere la distribuzione è non voglio neanche cliccare sell è ridicolo e voglio vedere i soldi che cadono sul conto senza che io faccia neanche il click del sell e sono disposto a pagarci ad avere un'inefficienza fiscale ok ho capito l'inefficienza fiscale ho capito che è peggio però non voglio fare neanche quel click voglio vedere proprio il soldo che la cedola che mi entra sul conto vabbè l'hai capito ti sta bene se sta bene a te sta bene i soldi come dico i soldi vostri fate quello che vi pare io vi dico la soluzione migliore poi dopo voi fate 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 vopis ok come faccio a convincere un collega che è continuare a comprare i casi da mettere in affitto che ci sono alternative finanziarie più sicure e liquide allora qui in realtà tema immobiliare andiamo ad un altro tema spinoso in realtà dipende non vanno convinte le persone necessariamente perché se lui lo fa di lavoro però se mi dice un collega se uno lo fa di lavoro comprare per affittare case e quindi vuole fare l'immobiliarista come se uno mi dice io voglio fare il commercialista voglio fare l'avvocato voglio fare il consulente finanziario voglio fare l'immobiliarista è una professione va bene deve sapere che ha un lavoro sta facendo un lavoro se misura la redditività in maniera fatta bene se fai conti senza l'oste no se ti dice ho comprato la casa l'ho pagata 100.000 faccio l'affitto metto questo guadagno il 30% all'anno d'affitto poi non ci mette le tasse non ci mette i costi non ci mette la manutenzione non ci mette niente vabbè nel senso c'ha dei numeri che non stanno in cielo né in terra se lo fa come investimento quindi lui dice no ma io investo in immobili così allora no se lo fa come investimento chiaramente non c'ha non c'ha senso non è questione di convincere è questione di farsi di fargli fare i conti cioè fatti i conti realmente quant'è il rendimento realmente quant'è il tempo che ci dedichi perché tante persone non sanno la differenza tra investimento e la rendimento dell'investimento e il reddito da lavoro quindi comprano l'immobile ti dicono io sto investendo in immobili ma in realtà si sono comprati un lavoro immobiliare che non sanno fare e che li paga meno di un pakistano senza offesa per i pakistani gli amici pakistani d'altro sono amici anche che ci seguono per dire pagato poco perché non si fanno i conti quindi stanno là con gli immobili non misurano la redditività corretta se ti perdi i pezzi se ti perdi i costi mi fai provi a dare la redditività dell'immobile senza considerarci la manutenzione long term non ho fatto manutenzione quest'anno quindi la redditività è questa no devi ammortizzare i costi di manutenzione ce li devi mettere anche quando non ce li hai se non ci metti il tempo se non scrivi il tempo che tu dedichi alla gestione degli immobili e non lo quantifichi quel tempo e non te lo remuneri quel tempo come se uno fa il medico dice nel frattempo compro affitto e affitto immobili ma gli prende nell'anno che ne so 50 ore di gestione all'anno ma quelle 50 ore di gestione per prender che un rendimento complessivo dell'investimento che tanto al netto state sempre intorno al 3-4% non si esce se non sapete farlo proprio che non fate di super lavoro e non siete veramente bravi cioè tu stai investendo 5 stai immobilizzando capitale stai dedicando magari dico numeri a caso 50 ore all'anno per gestire degli immobili che ti rendono il 5% 4% anche se fosse il 5% del capitale che è lo stesso rendimento più basso dei mercati finanziari e in più ci metti quelle 50 ore sopra ma se quelle 50 ore fai il lavoro tuo che stai fare che se sei un medico sei capace sei bravo ti pagheranno 500 euro l'ora perché devi fatte pagare 10 euro l'ora per quelle 50 ok non c'è senso quindi dipende ce lo vuol fare come il lavoro come immobiliarista dice ok vuol fare come immobiliarista d'accordo sa che è un lavoro ma deve esserci il reddito da lavoro quindi la retribuzione per il lavoro che fa più il rendimento del capitale i rendimenti devono alzarsi forse te matti mamma mia fermi tutti non fate questi errori in vista tra l'altro le lunghe scadenze vi do questo spoiler più allungate le scadenze le scadenze lunghissime sono a livello di rendimento inefficienti quindi scordatevi se bastasse fare la relazione abbassano i tassi vado su lunghe scadenze e faccio un sacco di soldi sarebbero tutti miliardari quindi non è così non vi andate a prendere scadenze troppo lunghe di fatto perché non c'è non c'è sufficientemente il rendimento per il rischio che vi prendete e poi non date per scontato il taglio dei tassi perché il taglio dei tassi di quanto e poi ancora il prezzo dell'obbligazione lo fa il tasso di interesse ma lo fa anche il premio per il rischio quindi anche se abbassano i tassi attenzione perché se aumenta il rischio Italia nel frattempo cosa che non è improbabile i prezzi scendono non c'è solo il tasso di interesse come vanno detto qualche ignorante c'è il tasso di interesse il premio per il rischio il prezzo dell'obbligazione è fatto da due parametri è influenzato da due parametri il tasso di interesse il premio per il rischio per Niccolò in realtà lo fai con tutto non solo i titoli di Stato lo fai anche con le obbligazioni lo fai anche con un etf obbligazionario che ha una scadenza è andata via la calma si capito perché poi ti devono dire non capiscono una frase di senso compiuto poi ti devono dire anche chiacchierone ti devono dire capito poi è solo marketing ma di che? poi ti copiano è solo marketing no è solo marketing che fanno gli etf a distribuzione non è marketing quello che vi dico il fatto che un etf scade a dicembre 2028 è un dato il fatto che un etf scade a dicembre 2028 no ma poi mi diverto no mi diverto perché poi tutti questi qua che fanno i fenomeni poi gli chiedi ma scusa tu che sei così bravo mi fai fammi vedere quello che combini con i soldi tuoi con i conti tuoi se sei un promotore che poi la maggior parte questo promotorini da qualche rubagalline qualche roba così no eh no ma qua eh ma qua eh ma no eh cominciano la sagra dell'emma ma fammi vedere tu con quanti soldi lo fai ti fai vedere qua eh no io ho questo lo storico con mille euro invece mettono cinquemila euro eh no oppure ma i miei clienti fammeli vedere i portafogli dei clienti che gli fai le cose magiche eh no però è ma è ma di là è che so divertenza e va bene ciao Alessandro quando aprite una sede a Roma 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 eh arriviamo 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 con calma con calma stiamo crescendo stiamo mettendo giù belle stiamo mettendo un'infrastruttura bella robusta arriveranno delle delle grandi novità delle grandi novità arriveranno così almeno poi arriveranno anche le anche le sedi proprio dobbiamo mettere a posto un po' di un po' di cose ma arriveranno delle super novità entro la fine dell'anno quindi belle cose ma sì ma la domenica mattina ma state a letto devono venire qua a di cose senza senso dai è giusto 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 confermo vende diamanti a prezzi falsi ce ne vuole vende diamanti a prezzi che non esistono è stata un'operazione clamorosa però no noi facciamo le marchee certo di là vendono i diamanti a prezzi falsi vendono i fondi con il 6% di commissioni vedete l'ho buttato ci vedete al prossimo giro fondi dove dentro ci stanno miliardi se esci il primo costi complessivi se esci nei primi tre anni 6% medio anno voi mi dovete dire col 6% medio anno di costo costo medio nei primi tre anni quando guadagni meno dire quando guadagnare ogni anno partite da meno 6 partite meno 6 che lo dai al gestore ma come fai a guadagnare come devi spiegare come fai a guadagnare no ma voi anche voi il servizio c'è qualcuno che ha pagato il 6% con noi no non lo so ditemelo se magari va bene al posto dei bond perché non si compone il portafoglio costruito dalle certifiche oddio mio che ho letto rendimenti superiori eccetera le fiscalmente compensabili con meno sbalenze no Davide oddio che male oh che male ragazzi me la fate una dose di camomilla e valeriana per favore no va bene allora qua chiaramente scherzo Davide vedo nel tuo commento giustamente una domanda lecita vedo e quindi e quindi giusto no assolutamente assolutamente no con la N ma così così grossa allora il certificate segue lì quello segue una dinamica di vendita e basta nel senso che c'ha senso in un portafoglio solo per recuperare i danni che avete fatto c'hanno senso solo una piccolissima categoria di certificate in minima parte chiaramente solo per recuperare ripeto danni che avete precedentemente fatto e tra poco non servirà neanche più ringraziando Dio perché cambia la normativa sulla fiscalità e va bene detto questo rendimenti superiori attenzione rendimenti superiori non esiste rendimento superiore senza rischio se no mi fate l'errore delle subordinate bancarie ve le ricordate le subordinate le hanno vendute milionate miliardi hanno venduto di obbligazioni subordinate cioè questi che alzavano il telefono e chiamavano per comprare le obbligazioni subordinate che sapevano lo sapevano che le banche le quattro banche stavano a fallire lo sapevano i commerciali gli ricevano di vende di vende ai retail le obbligazioni subordinate perché stava a scoppiare il finimondo stava a scoppiare chi telefonava molti non lo sapevano che anche sopra lo sapevano cioè questi alzavano il telefono e dicevano ma perché compri l'obbligazione l'obbligazione nostra che rende il 5 quando puoi comprare sempre l'obbligazione nostra che rende il 7 dice cavolo giusto ma perché so così scemo io che compro l'obbligazione al 5 quando posso comprare la stessa obbligazione che è il 7 poi il fatto che vicino ci sia stato scritto subordinata 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 ma sarà subordinata subordinata è una parola non so manco che vuol dire che me frega subordinata io mica so scemo io prendo il 7 prendo è la stessa banca polverizzare i rasi al suolo ma mi hanno truffato intanto tu le comprate perché vuole il rendimento più alto va bene quindi i rendimenti superiori no no buono il rendimento superiore è perché c'hai un rischio superiore tra l'altro il certificate è una struttura complessa di opzioni struttura complessa di opzioni anche esotiche è una struttura di derivati intanto andate su strumenti costruiti fatti con derivati attenzione sono strumenti semplici che nel risultato finale sembra semplice ma in realtà è una struttura iper complessa che sono titoli di debito emessi dall'emittente perché il certificato è un titolo di debito emesso dall'emittente è come se stesse comprando un'obbligazione dell'emittente poi dipende dal certificato hanno strutture hanno strutture diverse ma di base col certificato rinunciate al dividendo del sottostante perché col dividendo del sottostante l'emittente ci costruisce la struttura in opzioni più un markup che si mette in tasca quindi di base non può dare rendimenti superiori anzi a parità di rischio da dei rendimenti più bassi se a parità di rischi desse dei rendimenti superiori ai retail non arriverebbero cioè la banca non lo impacchetterebbe la banca per vendertelo se lo terrebbe per sé cioè le banche sono assedate ai rendimenti sui mercati al stesso rischio desse dei rendimenti superiori l'emittente non lo venderebbe a retail lo impacchetterebbe e lo venderebbe agli istituzionali ma gli istituzionali non li comprano non compri i certificati gli istituzionali compri i certificati ragazzi no ok quindi è uno strumento fatto impacchettato per il retail chiaramente periccoli inefficienze costi nascosti che la gente non conosce e poi possono avere problemi di liquidità anche quindi molti hanno spread per patrimoni importanti iniziano ad aver pochissimo senso anche perché poi ripeto i coach possono averci spread elevati difficoltà di acquisto e vendita per patrimoni molto elevati quindi certificati a meno che non avete esigenze specifiche di recupero minus quindi recuperare danni che avete fatto perché se avete pianificato bene le minus non ce l'avete è impossibile avere minus se pianificate bene se avete fatto dei danni dovete recuperarli occhio perché se no così vi fate dei portafogli che fanno ancora più danni quindi attenzione bella domanda di Enrico se scoppiasse un conflitto mondiale cosa succederebbe agli investimenti cosa è successo ai precedenti due conflitti mondiali si presenterebbe la stessa situazione anche ai giorni nostri secondo te bella bella domanda questa mi è piaciuta allora da considerare intanto da dire ai mercati c'erano c'erano esistevano nei precedenti conflitti chiaramente sono sopravvissuti adesso adesso vado a memoria non mi ricordo credo che qualche giorno soprattutto credo che la peggiore poi in realtà non era neanche sul conflitto mondiale ma nel 29 la crisi del 29 è stata ancora ancora peggio comunque al massimo chiudono le borse chiudono le borse qualche giorno poi anche qui dice qualche giorno da capire nel senso che un conto è il conflitto la prima guerra mondiale un conto è la seconda dipende quello che esce nel senso che se 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 litigano adesso seriamente e fanno iniziano a tirar fuori l'artiglieria pesante che ne sai oggi hanno mezzi che magari prima non ci avevano questi possono annientare il genere umano dice vabbè se incominciano a sparasse le bombe atomiche tra di loro radano al suolo l'umanità che succede alle borse niente finiscono insieme all'umanità quindi dipende dalle entità non è che uno può dire ok quello perché comunque siamo sopravvissuti ai precedenti conflitti quindi non c'è non ci sono state guerre che hanno portato all'estinzione dell'umanità quindi uno deve sempre considerare che c'è il survivorship bias quindi siamo sopravvissuti e quindi raccontiamo storie che in cui ce l'abbiamo fatta ecco quindi da considerare sempre questo dipende l'entità però se c'è un po' dire se c'è al fine le guerre ci stanno sempre ci stanno non è che non ci stanno è tutta una guerra come è successo con la Russia appena invaso l'Ucraina cominciano a rompere le scatole all'Ucraina adesso c'è l'Iran con Israele e tutto beh lo ci deve essere sempre una narrativa da raccontare però ecco a meno che non cominciano ad andare sull'artiglieria pesante che salta al banco le aziende finché ci stanno le aziende che continuano a fatturare a fare a vendere persone che consumano che acquistano che girano i mercati i mercati rimangono se chiaramente salta tutto il banco e allora i soldi diventano inutili per tutto anche perché se c'è un conflitto proprio gigantesco quello che non deve succedere le uniche cose che contano sono cibo medicine e armi basta non conta più niente non è che andate a fare la spesa con gli euro ecco non è andate dal viceguarda gli do 100 euro me lo dai il pane io il pane non te lo do me lo tengo io me lo tengo poi da quello che ti pare che c'hai le armi c'hai le armi no armi non ce l'ho ok medicine che me dai ma io non ce l'ho le medicine allora no io la carta non la voglio chiaramente sono dinamiche situazioni limite oddio come ci si difende dalle correzioni dell'azionario andrebbero bene le opzioni no siete matti cioè le opzioni ragazzi strumento iper complesso derivato che c'è un effetto leva è da professionista ok e no non ci si difende con le opzioni ci si difende con la pianificazione cioè non dovete quello che ho detto all'inizio non dovete ecco vedete magari Francesco non ha iniziato la live con noi quello che ho detto all'inizio le persone vogliono prevedere il futuro vogliono prevedere la pioggia quindi come ci si difende dalla correzione dell'azionario come si prevede quindi il messaggio è come si prevede il futuro tu non devi prevedere la pioggia tu devi costruire l'arca quindi tu non devi utilizzare le opzioni per proteggerti dalla correzione tu devi costruirti il portafoglio portafoglio ben fatto che quando c'è la correzione dell'azionario tu non la soffri cioè che quando piove per te non è un problema cioè tu la devi la devi subire la correzione dell'azionario perché è quello che è il tuo premio per il rischio cioè l'azionario il rendimento dell'azionario è il premio per aver sopportato un rischio il rischio e la correzione non potete aver premio per il rischio se volete eliminare quel rischio quel rischio dovete prendervelo cioè c'è lo dovete affrontare con la giusta dose il problema è quando vi esponete troppo a quel rischio cioè il problema non è prevedere il 5% il 10% il 20% di correzione dell'azionario quella c'è non la prevederete mai perché altrimenti i fondi sarebbero non ci sarebbero i fondi che vanno sotto benchmark sarebbero tutti sopra benchmark anche là se poteste proteggervi dalle correzioni sull'azionario con le opzioni e quindi avere dei portafogli che fanno meglio del mercato perché a quel punto farebbero meglio del mercato sareste più bravi del 99% dei gestori dei fondi che gestiscono 50 miliardi beh qui là la domanda che ti faccio per la Gesco è tu pensi di essere in grado con le opzioni di fare meglio del 99% dei gestori che gestisce miliardi con i più bravi analisti del mondo usciti dalle migliori università del mondo che fanno questo di lavoro dalla mattina alla sera con le migliori strumentazioni del mondo con l'accesso alle informazioni più precise del mondo e loro non ce la fanno tu pensi di far meglio? No chiedo chiedo eh perché a quel punto è una cosa di valutazione personale se rispondi di sì dico tanti auguri quando ti schianterai ti auguro di mantenere un perché tanto lo farai di mantenere un po' di capitale per poter o studiare oppure venire in consulenza ecco altro non posso non posso dirti nel senso tante volte bisogna anche sbatterci bisogna prenderla la legnata se no non ce l'accorgiamo cioè nel senso io sono di quella parrocchia che è la anzi sono di quella scuola cioè anch'io sono da da legnata con il trading 2007 2012 più o meno mi sono dovuto bruciare due conti da 10.000 euro prima di capire cazzo devi studiare brutto ritardato cioè detto a me detto a me stesso io che parlo con me stesso dico brutto e scemo studia che stai a fare basta basterà hai bruciato uno hai bruciato i due adesso smettila ok tante volte bisogna bisogna prendere la sberla e prenderne anche due sentire proprio il dolore sentire la sconfitta sentire quanto quanto brucia aver proprio sbagliato perso soldi fatto un disastro per dire ok i mercati vanno affrontati così io non sono più bravo non posso essere più bravo del 99 per cento dei gestori a meno che appunto ripeto non state facendo state facendo trading lì il confronto non è con i gestori dei fondi perché loro hanno miliardate noi da trader abbiamo decine di migliaia centinaia di migliaia di euro per operare e allora lì possiamo sfruttare le dinamiche psicologiche che si creano su una categoria di mercati per crearci il nostro vantaggio basta ok però lì sono altre dinamiche cioè andiamo a lavorare dove i fondi non possono andare a lavorare quindi non mi confronto contro i fondi mi confronto contro quel manipolo di ludopatici che stanno lì che comprano le small cap americane to the moon to the moon to the moon e poi dopo si brasano i conti ok quindi psicologia del mercato ha portato al nostro vantaggio e va bene Raniero qui Raniero credo che sono un po' della tua scuola nel senso che del tuo pensiero che cosa può esserci interessante nelle obbligazioni in realtà qua allora quando uno costruisce un portafoglio cioè quando uno investe due cose intanto non lo fa soltanto per il rendimento sfrenato eccetera e questo qui veramente ne parlo da società di consulenza finanziaria che ha fatto più di 10.000 analisi di portafoglio quindi ha parlato con più di 10 cioè allora quando dico più di 10.000 analisi non dico che hanno scaricato un pdf generico ci hanno fatto scaricare 10 pdf generici dico che abbiamo fatto 10 abbiamo fatto 10.000 analisi personalizzate a 10.000 persone diverse commentate anche in call hanno fatto i consulenti quindi hanno visto 10.000 sono tante tante volte i numeri ci sfuggono 10.000 sono veramente tante e quindi capisci bene le dinamiche perché viene abbiamo parlato parli con quello che c'è a 10.000 euro parli con quello che c'è a 10.000 milioni di euro abbiamo parlato con tutte le praticamente tutte le categorie possibili di persone con tutti i patrimoni possibili dal più basso al più alto con tutte le situazioni diverse patrimoni alti i redditi bassi patrimoni alti i redditi alti i patrimoni bassi i redditi alti i patrimoni bassi i redditi bassi di tutto e chiaramente noi questo quando abbiamo fatto la società lo sapevamo che era così perché abbiamo studi abbiamo studiato veramente no su youtube abbiamo studiato università abbiamo studiato gli americani il processo di pianificazione questo in america negli anni 70 lo facevano quindi sapevamo che funzionava così adesso abbiamo avuto la riprova le persone non vogliono solo rendimento più hanno capitale più hanno patrimonio più ti dicono io voglio protezione cioè più cresce il tuo patrimonio più non ti interessa di avere al 20% di spingerlo al massimo vuoi ti dicono uno me lo devi proteggere due proteggere da che cosa proteggere dalle oscillazioni quindi contenere oscillazioni proteggermelo dall'inflazione perché mi sono fatto un mazzo così per farmi quel patrimonio tutti chiunque si è fatto un patrimonio si è fatto un mazzo così quindi prima me lo devi proteggere dall'inflazione perché se se mi perde valore io mi sono fatto un mazzo così per fare quel patrimonio ma poi tra dieci anni me lo ritrovo dimezzato in valore allora me lo devi mi devi proteggere questo valore che ho creato cioè io ho questo patrimonio devi proteggermi questo patrimonio qui dall'inflazione e poi se mi dai una rivalutazione va bene me la prendo ok quindi non voglio una super rivalutazione voglio una rivalutazione voglio bene per i va dipende da quali obiettivi poi chiaramente ha il portafoglio così chiaramente io sono io sono parrocchia azionaria faccio quasi sempre tutto azionario ho anche le obbligazioni però vengo dall'azionario utilizzo l'azionario però l'obbligazionario quando tu costruisci una macchina quindi devi dare una macchina al cliente la macchina ha il motore che è l'azionario poi devi mettere a quella macchina i freni che magari può essere l'oro gli alettoni per stabilizzarla che è l'obbligazionario ok quindi l'obbligazionario aiuta a rendere il portafoglio più efficiente chiaramente va scelto bene non puoi prendere se comincia a prendere BTP comincia a prendere cose a destra e a sinistra fai più danni l'obbligazionario è più complesso dell'azionario quindi se inizi a trattare l'obbligazionario male la gente è amante dell'obbligazionario pensa che è semplice in realtà è più complesso dell'azionario e quindi poi alla fine costruisce delle macchine fatte da che hanno la scocca bellissima ma non hanno il motore non hanno le gomme quindi poi alla fine fatte male però c'ha senso l'obbligazionario e aiuta le performance del portafoglio nel lungo termine è più efficiente un portafoglio ben diversificato dove c'è anche una percentuale di obbligazionario rispetto a un portafoglio 100% azionario ok poi parliamo di perché quantomeno ti aiuta nel sopportare le perdite e quindi poi recuperi prima quelle perdite e quindi psicologicamente è molto meglio da sopportare quindi anche io non sono fan dell'obbligazionario anche io non ci do però poi sposi la matematica è matematica quindi posso non essere d'accordo quindi ecco vedete come ragiono io non mi piace nella mia testa non mi piace l'oro non mi piace le obbligazioni ma se la matematica la finanza mi dice che è meglio averci l'obbligazionario e l'oro nel portafoglio con strumenti efficienti bla 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 ce l'ho nel portafoglio l'obbligazionario certo che ce l'ho ce l'ho l'oro nel portafoglio certo che ce l'ho non mi piacciono ma ce l'ho io non devo fare le cose nella mia testa quello che funziona devo fare perché se no ne pago le conseguenze ne pago ok poi se stiamo al bar a chiacchiera così va bene mandiamo il caffettino l'obbligazionario è qua però alla fine poi ce l'ho ci sta bolla degli etf puoi dirci qualcosa in merito che cosa ne pensi che è una pagliacciata gigantesca anche qui è la storytelling dei fuffa promotori delle banche dei fuffa assicuratori dei fuffa postini non c'è cioè sono fondi sono fondi sono fondi come i fondi attivi è lo stesso poi ci sono gli algoritmi quindi ti dicono che comprano sempre gli stessi i prezzi salgono ma se creassero davvero inefficienza a parte il fatto che non stanno in bolla adesso hanno appena superato i fondi hanno appena superato il fondi quindi se oggi se stessero oggi gli etf in bolla vuol dire che i fondi sono stati in bolla per tutta la vita non è successo niente vabbè detto questo se il problema se l'etf se aumentano le masse sugli etf si creano inefficienze sul mercato quello che non vi dico non mettono la virgola se si creano inefficienze sul mercato dovrebbero arrivare i gestori dei fondi attivi cioè per i fondi attivi è un paradosso è una chiave di marketing di vendita chiaramente è uno storytelling perché per i fondi a gestione attiva per loro sarebbe un bene che gli etf creassero inefficienze perché così potrebbero utilizzare le loro fantastiche strategie per migliorare i rendimenti il punto è uno gli etf non creano inefficienze due i gestori dei fondi non sono in grado neanche di prendersi quelle inefficienze che creano quindi se mai dovessero creare delle inefficienze adesso non le stanno creando perché se le creassero i gestori dei fondi già i fondi sarebbero tutti tutti a battere il benchmark e se le dovessero creare nel momento in cui dovessero creare delle inefficienze sul mercato quindi liquidità che va sempre sui soldi di titoli che creano quindi come dire vengono sovrapprezzati eccetera nel momento in cui si crea un'inefficienza arrivano i trader arrivano arrivano gli operatori che beccano l'inefficienza se io vedo che c'è un'inefficienza su invidia che faccio? La short lo ho fatto come lo faccio io lo fanno milioni di trader gente che sa quando dico trader dico il vero trader quel ludopatico che sta in cameretta che fa che fa che sta fai gratta e vinci i trader la short se trovano se vedono l'inefficienza l'operatore la short chiude quell'inefficienza il mercato funziona così ragazzi quindi è soltanto uno storytelling per mettervi paura non c'è proprio da ha senso un pac sui i bond no direi di no di base di direi di no Enrico però l'informazione è così un po' scarna nel senso bisognerebbe sapere molte altre informazioni bisognerebbe sapere per poter rispondere alla domanda mi verrebbe da dirti di no mi verrebbe già non capisco la motivazione ma dovrei averci più informazioni così veramente è come tirare il gratta e vinci anche qua pensavo fosse una domanda ecco se poi mi dici preferisco eserti vabbè se vuoi prendere rendimenti più bassi con rischi più alti e ognuno con i soldi proprio ci fa quello che vuole e poi quando siete gnocchi vabbè poi quando vi fate male l'importante è Davide tu preferisci i certificati va bene ricordati questo quando ti schianti poi richiedi un'analisi gratuita e vieni in consulenza perché non è questione di non è questione di se ti schianti è quando succede quando succede non lo so magari ti trovo più tardi possibile ma quando succede magari lasciate un po' di capitale per far eseguitare per pagare la parcella è fatta eseguita noi va bene se vi fate rigirare il cervello dai venditori dei certificate it's up it's up to you dipende da voi oh dio senza ah ok bitcoin come acquistare bitcoin in ethereum senza far dichiarazione reddit pensavo mi chiedessi come fare evasione fiscale che ovviamente non ti potevo da rispondere però mi dicevi senza compilare quadro rv ok perfetto con le tn con le tn unico modo etn andrea andrea quindi strumento finanziario regolamentato strumento finanziario regolamentato che replica il prezzo di bitcoin e via e quello lì è strumento finanziario e rientra insieme agli altri ok 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 oh ragazzi infatti 10 e 40 ma siete matti ma siamo ancora live sono le 10 e 40 la colazione finanziaria più lunga della storia vi è piaciuta vi è piaciuta questa live ragazzi concludo con il commento di Raniero non ho messo ancora per il battito di mani la distribuzione aspetto aspetto fatemi sapere se vi è piaciuta la colazione finanziaria di oggi nel frattempo ecco chiudo chiudo con questa con questo con questo punto qui non è allora sulla distribuzione non è una bindolare è creare è aver creato un prodotto che che in realtà va incontro all'esigenza di una persona di una persona con un'educazione ma è un'alfabetizzazione finanziaria bassa che ripeto quindi allora non è un danno grosso se qualcuno ha l'ETF obbligazionario a distribuzione può anche andar bene no e anch'io io ce n'ho una distribuzione l'ETF obbligazionario ma è talmente però piccolino mi interessava espormi a quel mercato lì c'era solo la distribuzione e la presa distribuzione quindi non sono il male non è una bindolare è creare un prodotto che invece di dire ok ti spiego che è meglio ad accumulazione ti dico tu lo vuoi la cedola lo vuoi a distribuzione questo è quello che vuoi cioè hanno dato al mercato quello che voleva al mercato senza senza provare a spiegare noi quando uno diceva la società di consulenza indipendente è nell'interesse della persona io non ti devo dare il prodotto che ti fa contento il ti ha quindi ti devo dare ti devo spiegare e ti devo far fare un portafoglio che matcha le due le due esigenze in maniera più efficiente possibile cioè io ti devo spiegare io non ti posso far fare un etf a distribuzione se non ti servono le cedole se puoi fare meglio ti devo dire guarda è meglio che lo fai ad accumulazione non a distribuzione poi se tu una persona dice no ma io lo voglio a distribuzione allora va bene ti dico ok lo facciamo a distribuzione ma devi sapere che è inefficio cioè non mi venire a dire dopo dieci anni ma com'è che sta ancora qua perché l'hai voluta distribuzione te l'avevo detto che avresti dovuto farla ad accumulazione ok quindi il ruolo ecco quando vedi il ruolo del consulente non è il venditore il venditore se io ho gli etf l'emittente dell'etf deve vendere l'etf l'emittente del certificate deve vendere il certificate il promotore in banca deve vendere il fondo l'assicuratore deve vendere la polizza il postino deve vendere tutta la roba che hanno loro noi dobbiamo fare quello che serve al cliente il prodotto più efficiente per il cliente ok che è nettamente diverso da una logica di vendita ok quindi non è una bindolare qui spesso una lancia nel senso che non è una bindolare è un dare per fare il loro lavoro quindi dare al mercato quello che vuole il mercato ok quanti commenti ragazzi bella 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 be commenti sto avendo be commenti bella mentre faccio giardinaggio grande Maria Maria grazia ciao Maria grazia top domenico un saluto mandano un saluto anche a Zanni glielo manderemo glielo inoltreremo qua Marco l'abbiamo già l'abbiamo già risposto non li devi mettere per forza la distribuzione te la puoi far tu la distribuzione e sul resto delle domande ragazzi un saluto anche Enrico Giampiero Oscar e via 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 ciao a tutti ragazzi grazie 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 a tutti signori 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 mi sono anche impicciato grazie grazie veramente mi sono divertito mi sono fatto questo monologo non ho visto neanche l'ora mentre parlavo con voi della serie stiamo qui non perché dobbiamo star qui ma perché ci piace ecco questa credo sia la cosa la cosa più bella il tempo vola insieme a voi ragazzi 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 un vero piacere essere stati con voi due ore ricche 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 mi sono proprio divertito mi è piaciuta detto questo io vi rimando in descrizione fatevi seguire fatevi aiutare lavoriamo per voi lavoriamo insieme a voi quindi link in descrizione trovate l'analisi gratuita del portafoglio è gratis senza impegno fatela soprattutto adesso che i mercati entrano in una fase turbolenta se volete venire live 22 23 trovate anche il link per partecipare al trader part time ci parliamo di azioni saremo live martedì e mercoledì non ci saranno registrazioni evento esclusivo solo per chi si registra è gratis ragazzi gratis e poi se volete diventare consulenti finanziari venire nel nostro mondo aiutarci a cambiare l'Italia come ormai stiamo facendo da tre anni e i prossimi anni saranno ancora più pazzeschi potete iscrivervi al nostro master sotto in descrizione trovate il link per partecipare al master per diventare analisti analisti tecnici per imparare il trading multi day insomma sotto trovate tutte le informazioni detto questo vi ringrazio vi auguro una super domenica in famiglia divertitevi godetevi la giornata noi continuiamo a lavorare perché siamo qui a lavorare tutti i giorni per voi e io vi do appuntamento alla prossima settimana in compagnia del dottor Zanni questa volta lo scicchetteremo prossima settimana con la colazione finanziaria numero 98 e preparatevi perché stiamo per arrivare alla 100 e alla 100 ci divertiremo ragazzi sarà in presenza la 100 vi dico questo ma le prenotazioni le prendiamo la prossima settimana dovete venire prossima settimana non mancate detto ciò colazione finanziaria solo per i veri appassionati di finanza ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.